buonasera buonasera a tutti e benvenuti buonasera buonasera grazie 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 come al solito per grande partecipazione che state dimostrando ai nostri webinar per chi non lo sapesse io sono seno corbini product specialist di audio se non vi preoccupate tra poco c'è luca e non è che ho rubato il posto semplicemente mi piaceva fare un'introduzione e ricordarvi che fondamentalmente da circa anzi da un po più di un mese ormai anzi direi una cinquantina di giorni con audio sales stiamo facendo una serie di webinar dove dimostriamo le tecnologie che andiamo a diciamo distribuire in quanto appunto audio serie quindi nel caso in cui non siate già iscritti alla nostra newsletter non siate iscritti ai nostri canali social vi invito fortemente a iscrivervi perché almeno rimarrete aggiornati su quelle che sono le novità appuntamenti non solo direct out chiaramente direct out ne abbiamo tanti da raccontare quindi magari verranno fuori anche altre altre situazioni però anche tutto il resto delle tecnologie che noi distribuiamo nello specifico vi vorrei ricordare che la settimana prossima abbiamo degli appuntamenti per quanto riguarda il mondo power soft lo specifico su armonia e su quello che è il mondo silica designer quindi se siete interessati al mondo dell'installazione o dell'integrazione con altri sistemi può essere una buona occasione da da non perdere in più ne approfitto e poi concludo promesso lascio la parola a luca vi ricordo che da oggi abbiamo caricato un bel po di webinar dei giorni precedenti sul nostro canale youtube quindi se per caso venne siete persi qualche d'uno vi consigliamo di andare sulla sulla pagina youtube di audio sales e rivedere quello che vi interessa quindi ehm quello che vi volevo dire come introduzione ve l'ho detto mi fa piacere ripeto che siate veramente così tanti giusto per le statistiche vi dico che siete abbiamo incominciato da un minuto due minuti e siete già in ventidue collegati quindi eh fa estremamente piacere vedere questa eh questa frequentazione del del format e eh specialmente nel forno nel caso di direct out perché eh diciamo eh ci dimostrate eh passione nel nel prodotto nello specifico nel prodotto prodigy MP quindi eh ci date delle eh ci mettete di buon umore ecco con la vostra partecipazione quindi grazie 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 e eh vado a passare la eh parola a Luca che eh andrà a eh raccontarvi di quello che è il prodigy MP nel workflow live vai Luca sei online a te grazie segno allora ragazzi bentornati vedete oggi mi sono fatto la barba ma vorrei che voi lo lo prendeste come un complimento e non come un segno di non rispetto dici sei un paraculo sì è vero sono un paraculo però è vero cioè oggi finalmente mi risento a casa dopo tanti seminari in inglese con tutti gli anglosassoni i nordici eccetera che se la tirano devi stare professionale devi pensare a quello che dici eccetera eccetera oggi mi sento in pantofole mi sento in ciabatta mi sento a casa so che dall'altra parte ci sono amici si può anche dire a o e chi deve capire ha già capito quindi oggi ce la godiamo e facciamo una bella carrellata su questo prodotto che più più lo uso più più mi più mi esalto e spero proprio di trasferirmi un po' di entusiasmo e quindi bando alle ciance e cominciamo comunque volevo dire che oggi il clima è molto rilassato informale amichevole esattamente come fossimo nella nella showroom di audio sales e speriamo di poterci tornare presto allora prima che mi dimentichi devo cambiare la slide e portarvi sul mio macbook ditemi se vedete il mio desktop come me bene allora probabilmente la stragrande maggioranza di voi ha già seguito uno barra due seminari sul prodigy mp per cui quello che abbiamo già detto per rispetto a chi ha fatto tutta la trafila non lo ripeteremo ma ovviamente faremo semplicemente gli esempi che sono calzanti con quello che dobbiamo analizzare oggi e il nostro focus oggi è bello è si multifunction processor bello è il broadcast bello è la remote production per oggi dobbiamo parlare del nostro cazzo di festival live che alla fine è quello che io so che d'altra parte dall'altra parte c'è qualcuno che finisce per m finisce per ura che sta già ridendo è quello che dobbiamo fare è quello che ci aspettiamo il mp ci dia una mano a fare egregiamente risolvere tutti i nostri problemi tu mi hai detto che se compro quello non devo più problemi per cui ti vengo a cercare se c'è ancora dei problemi tranquilli c'è tutto quello che serve infatti adesso andiamo a vederlo allora per capire come dobbiamo impostare il prodigy mp per il nostro festival live prima di tutto dobbiamo analizzare che cosa noi ci aspettiamo del festival live quanto è grande quindi io per esagerare o mi sono immaginato una situazione bella importante ora non vi preoccupate poi allargheremo a proposito questo schema live workflow revision 3 il segno corbini l'ha approdato nelle risorse disponibili nella piattaforma per cui se già lo volete scaricare adesso e tenervelo aperto se avete un ipad un qualcosa chiaramente non lo stesso computer nel quale stavate guardando il seminario perché se avete una stampata al volo stampatevelo anche se io farò di tutto per cercare di concentrarmi sulle porzioni di questo schema a volta di volta in che andiamo ad analizzare quindi mi sono immaginato un bagaglione bello grosso e questo però attenzione non vuol dire che se non avete un aggeggione così grosso da gestire allora non serve il prodigy mp non è quello e questo è per farvi capire che se anche dovete gestire una cosa gigantesca di risorse ne avete da vendere nonostante noi vi garantisco gestiremo tutto questo popolo di roba che avete davanti ci rimarranno comunque un sacco di risorse disponibili quindi vorrei che passasse il messaggio che questa macchina è una macchina multifunzionale una macchina che non ha certo problemi di mancanza di quantità di input quantità di output di dsp e quant'altro e vorrei fugare immediatamente ogni dubbio su delle informazioni che già sento circolare errate probabilmente messe in circolazione da chi non ha troppo piacere che venderemo in quantità importante è il prodigy mp e quindi sfatiamo subito un mito ma quanti input e quanti output ha voi potete rispondere a 416 input e 416 output più 4 uscite cuffie così partiamo già da una verità più vera di quello che ho sentito dire quindi dimenticatevi ama 132 flex channel per cui al massimo gestisci tra input e output 32 no e ve lo dimostro oggi quando sarete alla fine di questo seminario capirete che ecco cacchio che sono 32 32 32 out ma abbiamo una montagna di capacità di processamento una montagna di input e di output non solo hardware ma anche di processamento allora per rompere gli indugi vediamo non solo la quantità di input e di output che andiamo a gestire ma vediamo anche un metodo innovativo di come gestire tutte queste cose è innovativo non perché io sono innovativo o perlomeno non perché lucagerò innovativo ma perché il prodotto che ho disegnato ha introduce dei dei workflow dei flussi di lavoro che non erano semplicemente possibili negli altri prodotti tale per cui è chiaro che nessuno di voi li ha usati quel tipo di workflow e vi fa anche capire che se siete abbastanza flessibili d'ora in avanti con questa macchina potete permettervi dei disegni un po più eleganti che non vi costringono a fare 56 miliardi di gruppi come avete dovuto fare con tutti i processori che avete usato prima perché non era colpa vostra ma era l'unica maniera per poter fare determinate cose con il processore che avete usato fino a oggi quindi sgombriamo il dubbio e abbiamo un festival dove abbiamo nei primi otto canali e le console principali non ho fatto nomi di gruppi fantomatici perché così è un festival neutrale su solo che ci sono tre console principali un sd7 che ci darà un left un right e un un canale sub dedicato un s6l che ci darà un left e un right e basta questa è la scelta del fonico e dopo ci dice se devi farti un mono per il sub sono cavoli tuoi quindi è un problema del pi manager e un ssl che ci darà un left un right e un sub perché un sd7 un s6l e un ssl perché ho voluto fare dimostrare il fatto che come abbiamo già visto delle altre parti a noi in che formato ci viene dato il segnale non ce ne potrebbe fregar di meno odio ce ne frega ma non ci potrà mettere in difficoltà il formato con la quale ci viene fornito il nostro segnale le sd7 ci può dare un ma di perché esageriamo perché possiamo ma ci può dare un s3 ci può dare un analogico ci può dare un uscita dante sa una scheda dante non ci interessa però sappiamo che probabilmente lavorerà 96 kHz perché perché si lavorerà 96 kHz ma sappiamo anche probabilmente che quella console non accetterà un clock imposto da noi o noi accettiamo il clock della console oppure più probabilmente un'associazione di festival a meno che non sia l'headliner e quindi giustamente io posso decidere di avere quello come world clock reference qualora quella console o perché ha un dominio di clock incompatibile con il nostro o perché ha una frequenza di campionamento diversa da quella che abbiamo deciso di utilizzare in questo momento nel nostro festival se non sarà compatibile con frequenze di campionamento o world clock passeremo da un sample ray converter anche bidirezionale qualora dal nostro processore dobbiamo far tornare dei canali a quella console non ci sarà nessun problema né a ricevere segnali né a riconsegnare segnali lsd7 abbiamo detto ls6l è sicuramente a 96 kHz mentre con il digico avevamo anche l'opportunità che chi lo usa lo possa decidere di usare a 48 kHz ls6l è fisso 96 kHz quindi se c'è una cosa certa è che se vogliamo prendere un segnale digitale è chiaro che se prendiamo un analogico a quel punto non stiamo più a fare differenze con nessuno ma se prendiamo un segnale digitale da un ssl sicuro che di nativo è un 96 kHz lssl è uguale se prendiamo le ultime console sono sicuramente a 96 kHz fisse e ls6l ci darà ls right in sub come vedrete questi input e questi che ho rappresentato con queste scheme blocchi sono non sono altro che il flex channel che abbiamo a disposizione all'interno del pro di gmp e di questi flex channel ne abbiamo 32 noi ne utilizzeremo 16 solo esclusivamente per gestire questi input e non saranno finiti gli input perché durante questo super festival di cui dobbiamo fare la distribuzione del pa e la gestione del pa c'è anche richiesto di creare dei feed broadcast aggiungendoci i microfoni d'ambiente aggiungendoci dei commenti eccetera eccetera quindi quali sono gli altri input che dobbiamo gestire durante questo festival una guest console left right non meglio precisata non mi interessa che cos'è potrebbe essere alcun analogico un pm5 che era lì che faceva la ruggine tanto per il guest va bene eccetera eccetera e ci darà un left right broadcast left right che cosa vuol dire broadcast sono i contributi che durante il festival gigantesco ci vengono dalla televisione o dalle televisioni supponete che ci sia facciamo un esempio italiano che ho parte al quale ho partecipato davvero ecco all'arena di verona va bene non fai di questo festival per metti uno spettacolo che il live c'è e noi siamo interessati al live ma contemporaneamente c'è rai 1 che lo sta mandando in onda e rai 1 qualcuno che commenta da rai 1 parla alla gente che c'è all'arena o dentro lo stadio ecco allora in quel caso il segnale che viene dalla rai viene dalla rai deve essere comunque veicolato attraverso il sistema il pa perché la gente che lì altrimenti non ascolta la rai ci siamo ad esempio e quindi questi broadcast left right supponiamo che sia semplicemente una roba una roba stereo l'immancabile dj che lavora nei festival tra il cambio di gruppo tra un gruppo e l'altro un microfono per gli annunci sia di emergenza ma anche di housekeeping alle 4 distribuiremo l'acqua alle 6 ci sarà questa quell'altro il microfono ci vuole e un segnale di evacuazione sfiga perché ci vuole perché in situazione più il festival grande più è naturale che il pa è uno dei primi metodi col quale si può comunicare con tutta la gente che c'è in giro anche perché è quello che più potente in assoluto è quello che hai di lei e quindi non sarà l'unico sistema di evacuazione se il festival è veramente ben organizzato ma in ogni caso non si può prescindere dalla distribuzione segnali di istruzioni di evacuazione dal pa stesso quindi dei 32 flex channel che avevamo a disposizione già 16 ci abbiamo deciso di impegnarli per gestire al meglio questi input dove ci servirà dei limiter il dj sicuro al 100 per cento ci metteremo dei limiter così come gli annunci qua un canale che mi viene da un sd7 un s6 l ha bisogno di eq ha bisogno di limiter ma in teoria no ma in ogni caso se ci fosse diverso abbiamo tutti i plugin che ci servono interni nella macchina e li andremo ad ammettere al momento io l'ho considerato pulito se mi serve un time a giusta perché boh ce l'ho e non sarà un problema quindi qui non ho disegnato il plugin semplicemente perché perché ci può essere come non ci può essere ma questo non fa la differenza dove invece sono quasi sicuro che ci vorrà perché beh sai il broadcast che mi arriva chissà come mi arriva come pensato magari non è scalercio però se lo devo mandare in un pa che ha un'equalizzazione fatta in un certo modo piuttosto che andare a cambiare l'equalizzazione di tutto il pa per far funzionare bene quella roba che mi arriva dal broadcast aspetta che qualizza la roba che mi arriva e la adeguo a quello che sarà la destinazione del pa e la stessa cosa per il dj ci siamo anche perché magari il dj non è uno nei festival che andrò una settimana cambiano il dj i dj lo sappiamo noi che perdiamo tempo quindi sicuramente il limite è tutta la vita ma poi anche le q perché questo qua è talmente pulminato che per far sentire qualcosa di decente è meglio poter avere la possibilità di intervenire immediatamente la stessa cosa per gli annunci bene ci sono però questi otto input che sono leggermente più importanti degli altri perché magari ci sono gli headliner ci sono i gruppi i gruppi fondamentali se è un festival multigiornaliero cioè che va su più giorni c'è un headliner e tanti gruppi di supporto per cui ci preoccupiamo di prendere i segnali da queste console con più di un hardware fisico ovvero con un meccanismo di ridondanza quindi se tutto va bene dall sd7 left right sub prenderò i primi tre canali di un madi ma se va male quello ci avrò due coppie di isabel perché sono tre canali quindi due più uno e poi comunque se quelli proprio più headliner dammi anche tecnologici che non si sa mai ad esempio andando così avanti quindi immaginato che sui primi otto canali vogliamo utilizzare ad esempio un input manager che è quel meccanismo di automatic failover mi conoscete non voglio fare fenomeno con l'inglese e che ormai lo faccio tante volte in inglese che non quei meccanismi di automatico di ridondanza automatica sugli ingressi tale per cui se l'ingresso specifico viene perso perché si rompe la fibra perché viene distaccata perché chissà che quale sfiga altra noi abbiamo la possibilità ininterrottamente di passare automaticamente senza bisogno dell'intervento umano del p manager o del o del dell'altra parte e il switch over il passaggio tra il principale ridondante avviene in maniera automatica e lo vedremo e visto visto cercando di far capire qual è la situazione che abbiamo studiato e poi vedremo come andiamo implementare è un po come uno spartito musicale se voi avete scritto bene la musica qua andare poi interpretarle e come farla nel mp è assolutamente facilissimo quindi bisogna che prima capiamo a modo come vogliamo gestire dopodiché vedremo che è una cagata andarla a fare su un glock con ci siamo bene primo passo come mixiamo questi 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 segnali mixiamo cosa vuol dire vuol dire che mi vuoi far suonare lsd 7 assieme all ssl e assieme al al ssl e ls 6l perché no metti che a un certo punto questi qua si inventano che vogliono fare la jam session e quindi c'hanno già i tuoi set destra e sinistra facciamo bella ciao che il 25 aprile non penso nel nostro festival ma si sa mai ci siamo o we are the world ci siamo osserviamo il mondo e quant'altro liberiamo il mondo dal covid quindi noi siamo prontissimi quindi questi input che prendiamo da tutte queste console potenzialmente li possiamo anche mixare tutti insieme e poi una volta che abbiamo un mix che noi facciamo che creiamo mix stereo mix mono mix per i sub poi li andiamo a distribuire ad ogni singolo pezzo del nostro pa per avere quella granularità di controllo in termini di equalizzazione in termini di all pass filter in termini di di lei per gestire al meglio il nostro sistema quello di cui non ci occuperemo oggi ovviamente perché non è la nostra la nostra questione è il crossover specifico tra sub e top il taglio che c'è tra il medio e l'alto quelle sono cose che vengono decise da il produttore del pa al quale noi facciamo arrivare il suo segnale facciamo segnale arrivare al segnale all'array left se proprio vogliamo dividerlo in zone perché noi siamo in quei super cazzoli che ne sappiamo di più e quindi vogliamo fare il band zoning nell'array questo siamo d'accordo e possiamo dividere anche l'array left in 3 4 zone il downfield come volete questo non è un problema ma non ci andiamo a preoccupare del punto di crossover dei limiter che avvengono all'interno dell'impianto questo è fuori dal nostro scopo questo è una cosa che voi fate con chi vi ha venduto l'impianto e col quale vi farete i corsi specifici quindi dnb avrà i suoi dnb e l'acustica verso l'acoustic mayor verso il mayor e eccetera eccetera questo noi stiamo parlando di raccogliere i segnali creare gli stem che o i pezzi di dpa e rimandarli verso il pa quello che deve andare al piede valpia quello che deve andare alle comunicazioni vale comunicazioni quello che deve andare in recording per il virtual sound check o per la la storia e l'archivio deve andare in archivio quello che deve andare verso il broadcast track per la trasmissione live via 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 etere andrà verso di quello che deve andare al live streaming perché tanto ormai oggi non anche prima del covid ma soprattutto dopo il covid non ci sarà più nulla che non abbia un live streaming nei social eccetera eccetera bene quindi noi come come gestiamo dal punto di vista pratico tutti questi input li andiamo a coinvogliare in una matrice una delle 16 matrici mixer che abbiamo all'interno della nostra macchina e le andiamo a gestire in modalità due mono e uno stereo quindi la matrice 16 per 4 è perfetta perché ci andiamo a creare una porzione stereo per quello che sarà tutti i segnali che manderemo alla parte stereo del nostro impianto cosa vuol dire la parte stereo è tutto quello che ha sia un left che un right quello che avrà un array left right il main left right quello che avrà un out fill left right un up fill un down fill eccetera e una parte invece di mono che poi andremo a vedere come andremo a gestirlo supponiamo che per il momento questa qua la mettiamo in naftalina e ci ragioneremo dopo come quando e come dobbiamo creare un subwoofer eventualmente per i broadcast perché qua c'è da fare un attimo una precisazione mentre abbiamo un mono sicuramente che è quello che noi indirizziamo verso i subwoofer quanti l'andremo a vedere tra un attimo tanti perché un festival è complesso ci sono la metà di mille subwoofer e quindi già noi a livello di pi man ci ha chiesto di fare un lavoro ancora prima di arrivare al dettaglio del singolo woofer c'è proprio un discorso di linee di subwoofer che dobbiamo andare a gestire bene quindi prendiamo quei segnali che vengono dai vari flex channel nel quale andiamo a fare nei quali andiamo a fare tutta quella pre lavorazione tipo se bisogna di un EQ ci metto un EQ se bisogna di un limiter ci metto un limiter avrò comunque il gain avrò comunque il mute quindi una volta che noi andremo a fare le assegnazioni di dove questi segnali devono andare quanti a destra a sinistra nello stereo con che livello quanti verso il mono per il woofer e a che livello non ci dovremo più preoccupare di cambiare questa questa avviene in maniera statica perché dopo avremo tutti i controlli che ci servono direttamente dai flex channel questo è più che una matrice mix la dovete vedere come una regola di indirizzamento come il regolatore di dove devono andare i segnali ma in maniera assolutamente conveniente e in maniera assolutamente tradizionale per noi non c'è per noi e per voi non c'è niente di difficile è un fucking mixer da 16 canali con quattro uscite due mono e una stereo non c'è niente di difficile molto bene quindi 16 ingressi sd7 left right sub ssl left right sub guest left right contributi broadcast left right dj left right annunci microfonici e evacuazione scusa ma le annunci microfonici e tutte quelle console è ma chi cazzo sa qual è la console che sta andando al momento in cui devo fare l'annuncio sarebbe meglio essere assolutamente indipendente della console non solo non rompi il fonico che deve stare dietro che cose che non sopportano cosa me ne frega a me delle tue voci gli annunci fatti lì tu eccetera eccetera ma d'altra parte da che festival da che mondo è mondo c'è sempre stato una ciofeca di console di produzione dove ci passa tutto quello che i fonici giustamente non vogliono prendersi corso quindi succede che alla fine diventa un collo di bottiglia qualitativo un cattio di consolettina dove ci mettete il dj dove prendete gli altri feed delle altre console semplicemente per fare questo mescolamento bene col pro di gmp non c'è più bisogno della production console o della consolettina del cazzo perché facciamo tutto direttamente dentro la macchina abbiamo per amplificatori microfonici e che per amplificatori microfonici abbiamo filtri e che filtri abbiamo limiter quindi non c'è motivo per il quale non possiamo connettere direttamente il microfono per gli annunci direttamente in front of house così come faccio un salto ma poi andremo a metterci delle condizioni ci andremo a mettere degli altri ingressi quindi non è finita con 16 tu dici minchia ma ci voleva una console solo per gestire le altre console ma di fatto la quantità di canali che ho ipotizzato in questo super festival non ci spaventa ma ce ne sono tanti abbiamo quattro microfoni di ambiente tre commentatori o quattro commentatori che è per il feed broadcast ci sarà carlo conti fiorello mi ricordo chi c'era a dire una mano a commentare bonolis la gente più improbabile l'ultimo concerto di vasco che ho visto a modena mi pare che ci fosse un bonolis ricordate micchi c'era che in un bus commentava per la televisione che se stava zitto era meglio perché a me avrebbe piaciuto più più sentire vasco mentre lui ci parlava sopra addirittura mentre cantava comunque succede di tutto e noi siamo quelli che dobbiamo andare a costruire tutti questi feed o esagerato magari c'è una console per la messa in onda sì dipende dipende dal budget dipende se c'è qualcuno io in caso vi voglio dimostrare che se ce lo chiedono di fare abbiamo tutto quello che ci serve da fare quindi sostanzialmente nel mix che prendiamo dal mix che mandiamo verso il pa lo prendiamo pulito di tutte quelle qualizzazioni specifiche che faremo per il per il per il pa e su quel mix dry ci andremo ad aggiungere i microfoni d'ambiente perché deve essere un live e deve essere un live e ci andremo a mettere tutti i commenti che servono e siamo pronti belli pronti che impacchettare un segnale per lo streaming e avrà un'uscita di un certo tipo il segnale per il broadcast quindi a 67 ma di as3 tutto quello che sarà e per fare questo utilizzeremo semplicemente un'altra delle matrici mixer che abbiamo interno dove inutile che ci andiamo a reinventare il mix di qual è quella console che sta funzionando se durante il live sta funzionando la band con l'Sd7 già quello verrà fuori dal mixer principale che dice all'impianto mando l'Sd7 quindi riprenderemo quello che esce dall'altra matrice PA left e right e ci aggiungeremo un sub creato per il broadcast perché lo vedremo ben presto è diverso da quello che mandiamo all'impianto semplicemente lo avete già capito i più esperti di voi hanno già capito se mi arriva un left e right dalla console e mi devo creare io il sub allora vado a fare una somma a meno 6 db e lo mando verso il sub ma poi però c'è il problema che l'altra console invece mi manda qualcosa di specifico solo per i sub allora quel canale lo devo mandare verso il broadcast perché altrimenti non ci sarebbe nessun contributo dei sub quindi ovvio che noi ci andremo a creare questo che è il main del sub in alcuni casi sarà la somma che serve per mandare al e sostanzialmente questo qua siccome il sub viene già creato del PA left e right qua qui ci sarà solo quei sub che ci vengono dalle quelle console che mi danno un canale separato altrimenti di quelle console mi mancherebbe la parte sub che va verso il broadcast detto questo che comunque un tecnicismo che oggi ci interessa ma è giusto per non fare errori più che altro dobbiamo mixare sopra questa roba qua che è già un risultato di un mix precedente fatto all'interno dell'MP dei microfoni 4 microfoni d'ambiente 4 commenti nei microfoni d'ambiente e i commenti è chiaro che abbiamo bisogno di limiter di equalizzatori di limiter equalizzatori cioè ci abbiamo siamo richiesti di fare una messa in onda professionale non che prendiamo un microfono e siccome è un processore non possiamo equalizzarlo lo mandiamo grezzo con il boom e boom eccetera no facciamo una roba fatta bene prendiamo i microfoni d'ambiente li mettiamo dove dovevano andare li limitiamo li equalizziamo e li mixiamo assieme ai commenti per buttare fuori una messa in onda quel controcoglione chiaro che non facciamo un mix casserullante diverso per la messa in onda è ovvio che è una messa in onda fatta in loco ma non è tanto diversa da quella che fanno quando prendono il mix dal front of house e ci aggiungono solo i microfoni d'ambiente ho fatto né più né meno di quello che si fa quando non c'è una regia dedicata per la messa in onda sul broadcast vediamo se ci arriviamo a fine giornata ma di fatto quello che vi dovevo dire ve l'ho poi già anche detto perché di fatto quando abbiamo messo a posto il resto abbiamo già fatto anche le altre cose diamo allora un'occhiata per vedere come in glob con e dentro prodigy mc arriviamo a fare quello che avevo spiegato fino adesso poi una volta che abbiamo messo a posto tutti i nostri input andiamo a vedere come gestiamo poi gli output e come gestiamo con degli altri trucchetti trucchetti molto potenti una marea di output quindi cambiamo rotta andiamo da questa parte segno provi a sentirmi dice se ci sono domande fino adesso se tutto chiaro se non hai avuto interruzioni non abbiamo domande beh quindi poi continuare posso proseguire allora vi ricordate che noi abbiamo questi hardware input quindi questi hardware input le varie console che sono e tutti gli segnali che ci arrivano se verranno dai preamplificatori microfonici li prenderemo da questi hardware input se vengono da dei segnali madi li prenderemo e li avremo disponibili in madi in questo caso vedete che le mie le mie bende che stanno già suonando perché ce le ho in versione virtuale che stanno suonando qua sono tutte già belle che disponibili stanno già suonando e mi arrivano sia in madi che mi arrivano sia anche via dante così possiamo anche simulare un discorso di main e di redundant ora non è importante qual è il il meccanismo o il canale fisico che mi arriva le cose importante che capiate il concetto da un festival all'altro non cambia lo schema che vi sto tra virgolette insegnando ma cambierà semplicemente un patch specifico arriva nell'1 e 2 bene patch mi l'1 e 2 di che cosa l'analogico bene questo qua mi dà l'icebo bene piaceremo l'icebo ma non è lì la cosa difficile chiaro quindi in questo caso va bene qualsiasi scelta facciamo ipotizziamo che arrivino dante come main li backupiamo col madi e se tutto va male li backupiamo con l'analogico bene è una cosa che possiamo fare la cosa più importante però andare a vedere che il sincronismo qualora la cosa non fosse già sincrona passiamo e accendiamo dove serve sempre reconverter ad esempio il network 2 che in questo caso è Ravenna stiamo sincroni con la Rai e Sky perché sono loro i main sponsor quindi stiamo sincroni con loro bene e magari loro sono a 48 kHz e noi decidiamo di lavorare a 48 kHz ok il problema è che il MADI 1 cioè l'SD7 e il MADI 2 l'S6L sono a 96 kHz e quindi noi abbiamo deciso e sarebbe una scelta sbagliata a mio avviso se l'MP usato per il festival e il vostro PA è in grado di andare a 96 kHz e la stragrande maggioranza delle console sono a 96 kHz ha poco senso lavorare a 48 kHz su questo è fuori dubbio quindi in questo caso io metterei due FS qui andrei a 96 kHz e piuttosto converto quello che devo prendere e dare alle broadcaster ma siccome non cambia niente nel nostro ragionamento nel discorso fatto un po' quel cacchio che vi pare ci siamo questo non è il punto il punto è che dove non ti torna o la frequenza di campionamento o dove non ti torna il clock tu hai questo giochetto magico che si vede il mouse il mouse l'ho fatto apposta più grosso perché così avete la possibilità di vedere cosa sto facendo è una funzione del mac che non si può neanche esistesse per gli orbi si può aumentare qui siccome si sono aumentati gli anglosassoni che non si vedeva il mouse adesso voglio vedere se si aumentano ancora quindi il mi arriva il MADI 96 non sono sincrono con me boh accendo l'SRC frena e abbiamo già visto nei seminari precedenti spero perché ne ha fatte tanti che ormai confondo quello che abbiamo fatto vedere che abbiamo un fantastico sample reconverter che introduce cinque sample di latenza niente e ci restituisce il miglior audio possibile che si possa ottenere con cinque sample è comunque un audio che non riuscirete a orecchio sentire la differenza tra l'originale quello che passa dall'SRC missione compiuta soprattutto in un festival volete il glitch volete impazzire volete dire che non potete prendere segnale allora state sereni mettete questo sample reconverter che vi garantisco quando lo sentirete si accettano sfide blind però è chiusi gli occhi io ti dico adesso c'è o non c'è e vediamo vediamo se su dieci volte quanto le quante ne perdete quanto le sbagliate sono aperta a qualsiasi sfida e quindi siamo a posto attenzione anche il network io poggio su un network dante e non posso stare sincrono con dante perché non voglio perché non posso zero problema luca scusa se ti interrompo ma è sparito l'audio mi avete ripreso e ti abbiamo ripreso luca benissimo allora questo cosa ci insegna ci insegna che non è una buona idea non fare delle prove prima prima di prendere decisioni del genere soprattutto quando siete a metà di una diretta televisiva posso tranquillamente dirvi quel successo anche se non avrebbe dovuto succedere perché l'ho fatto tante volte negli altri seminari per qualche motivo un cambio di clock di dante che non era il mio master non gli è piaciuto ci siamo e siccome non gli è piaciuto un cambio di di clock ha avuto un periodo di mute che non si è sbloccato quindi questa è una delle classiche cose che quando dovete decidere se fanno roba di questo tipo o meno assolutamente non si prendono un rischio di fare una cosa di questo tipo anche se in teoria avrebbe dovuto funzionare ma sapete quante cose in teoria dovrebbero funzionare io vi spiego perché in teoria avrebbe dovuto funzionare perché il dante è per me non clock master perché dante per me è il network numero uno per me il network numero due è Ravenna che era ed è rimasto il mio clock reference dante prendeva il clock dalla mio prodigi e quindi io tranquillamente liberissimo di cambiare il mio coso perché comunque passava da un sample right converter quindi dante stava nel suo ci siamo e quindi io non c'è motivo per il quale questa cosa dovesse e in lui cambiare questa cosa qua tant'è che però è successo e fin tanto che io non gli ho tolto il fatto di enable sync to external questa roba qua non è andata probabilmente dovrò rifarlo e vedrò consegno se il fatto di sync to external gli dà da fare perché io sono passato a 96 può anche essere a quel punto sono un coglione faccio mia colpa diciamo ma sta di fatto che questa cosa non doveva succedere a questo punto se io lascio sync to external che lo lascio libero di lavorare per i cavoli suoi sono probabilmente convinto che allora sì l'errore l'ho fatto io perché mi ero dimenticato sync to external attaccato e dante stava aspettando dal prodigi sync allora il prodigi non può cambiare idea da 48 a 96 mentre lo fate grande altro insegnamento che abbiamo preso quindi adesso ditemi prendiamoci questo coraggio ripassa due fs ripassa due fs voi mi avete perso il segno dammi dammi un feedback mi hai perso adesso o non mi è online sono online allora vuol dire che sono un perfetto coglione anche luca geroli sbaglia e avevo sbagliato io perché avete parlato una cosa nuova se tu dici a dante che gli dai il clock to e 7 dante a 48 poi non darglielo a 96 pirla allora bastava togliere questo flag delle volte un flag la differenza tra pia interculo oppure salvare il culo quindi ricordatevelo quello che vi volevo fare vedere è che io durante il mio festival se mi sgancio da dante sono totalmente indipendente comunico da e per dante e ho la totalità di decidere la totale libertà di decidere a che frequenze di campionamento sto lavorando all'interno del mio processore per chi non ci avesse seguito nei seminari precedenti è fondamentale sapere che il processore è pronto per lavorare a qualsiasi frequenza di campionamento da 44 e 1 a 48 88 2 96 a 176 e 4 e 192 killer siete voi che decidete a che frequenze di campionamento dovete andare tanto poi se quello che dovete se quello che dovete scambiare sia in ingresso che in uscita non è della della frequenza di campionamento che avete deciso di andare potete passare da un sample reconverter è chiaro quindi che in questo momento essendo io ho passato a 96 killer e la scheda ravenna e la dante la ravenna card e quindi anche la ravenna l'infrastruttura ravenna che c'è sotto il culo non l'ho cambiata 96 qui c'è qualcosa che lampeggia che mi dice o ciccio io sono ancora a 48 killer e dov'è che lo vedo che a 48 killer il network 2 e il network 1 factor è rimasto a 1 fs quindi è ovvio che il lampeggio vi fa capire che questa roba qua in questo momento non potete prenderla se vi serve di prendere la ravenna e se vi serve di darla a rai eccetera zero problemi tac attaccate quello lui a questo punto è contento ed è successa un'altra cosa meravigliosa ed è successa un'altra cosa meravigliosa siccome tutti questi qui avete il sample reconverter acceso e allora nessuno di questi può essere più un clock buono e di conseguenza quando vi siete in auto clock lui prende il prossimo clock in priorità che è quello che vi fa continuare ad andare avanti quindi io sono sì a 96 killer ma il clock me lo genera internamente perché ho acceso tutti i sample reconverter e tutti i segnali digitali che mi vengono quindi in questo momento sono esattamente nella stessa identica condizione che è il vostro il vostro galileo quando lo usavate in digitale che comunque colui qualsiasi cosa voi gli dester impasto lui stava sul suo interno alla 96 killer bene questa è un'opzione che possiamo avere anche noi ma è un'opzione che scegliamo se io adesso richiamo una snapshot dove vado a prendere la snapshot di prima e vado a riprendere il mio scope set e la richiamo completamente torno anche solo per quanto riguarda il discorso del sync e del coso torno nella situazione precedente quando vado a richiamare questa snapshot torno e vado sync io sono tornato a un fs il mio clock master è tornato sulla rai chiamiamola così e confermatevi che non ho fatto un'altra cazzata e voi continuate a sentirmi chi è che mi conferma che mi sentite ancora sentiamo ancora il sentiamo ancora allora questo vuole dire che sebbene dove dovrete pensarci tre o quattro volte e se lo fate fate delle prove che tutto funziona non è nemmeno escluso che noi durante il festival non solo da un giorno all'altro ma da una band all'altra possiamo tranquillamente anche cambiare idea su quello che è la frequenza di campionamento o riferimento di clock e se questa cosa succedesse anche contro la nostra volontà perché succedono delle sfighe abbiamo tutta la possibilità di avere tutti i livelli di ridondanza di clock perché se lasciamo in auto il primo che viene messo a posto se funziona diventa lui se no diventa il secondo se no diventa il terzo se no diventa il quarto se no diventa l'internal e comunque quando diventasse l'internal è ovvio che tutti gli altri sono asincroni ma abbiamo il sample converter che ci riaggiusta tutto ve ne ho dette abbastanza di soluzioni direi di sì adesso andiamo a vedere come collegare i nostri input siccome abbiamo le prime otto console le primi otto canali che vengono dalle console sd7 left trattino im perché trattino im impariamo a dare i nomi ai canali che ci salvano il culo quando cominciano a aumentare e quando cominci a esserci un sacco di roba lsd7 left senza trattino im che vuol dire input manager è il segnale che mi arriva diretto dalla sd7 se io invece lo faccio trattino im so che nella mia matrice questo sarà il risultato dell'input manager e cioè già il risultato di qualcosa di ridondante che se va tutto bene prende il madi e se il madi cica mi prende dante e se mi prende dante mi prende l'analogico e così via ne abbiamo fino a 6 questo ve l'ho già fatto vedere l'altra volta esiste sia il fatto che c'è il locking e quindi se perdo il madi è ovvio che va stacchiamolo sto madi guardate state attenti a cosa succede a questo l qua io stacco il madi il madi è venuto via boom immediatamente l'automatico è passato sull'altro bene se questo qua anche lo stesse sentendo voi non vi sareste accorti assolutamente di niente perché questo switch over avviene in un sample ma se io perdo il madi perché lo ampeccio non perdo il lock quindi io starei tranquillamente su un qualcosa di silenzioso mentre so che il backup sta ancora funzionando e c'è audio e no non va bene perché se il main non c'è audio e il suo backup ha audio vuol dire che qualcosa è successo al main e di conseguenza il level coherence vi farà passare all'automatico anche se il madi viene semplicemente speciato e non solo distrutto la connessione madi per la quale ci porta in una situazione di aver perso la portante un'altra cosa fondamentale è la possibilità di linkare il comportamento del left con il right perché se io passo dal madi al dante solo sul left per qualche motivo sul right resto sul madi e voi sapete che non sono perfettamente allineati a livello temporale quindi la volta che vado a sommare il left e right per fare il mio mono lì crea un phasing e il sub fa cagare è un po' fuzzy un po' coso perché se hai quei 4.000 secondi di ritardo tra left e right non è un problema se sia left e right si spostano di 4.000 secondi avanti indietro è un grosso problema se tu sposti solo uno dei due allora onde evitare questa situazione tu puoi linkare il comportamento della ridondanza del left con la ridondanza del right se perdo uno dei due passo a quello successivo a patto che siano buoni tutti e due quindi l'algoritmo è intelligente tre volte quattro volte perso il left non è che passo subito al right passa scusate a quello successivo passa a quello successivo se anche l'omologo del successivo sia destro che sinistro sono disponibili la se la sfiga si incrocia e marfi delle volte fa delle magie quindi la sfiga si incrocia in tutte le maniere dovessi perdere il madi del sinistro e le dante dell'altro vado direttamente al terzo se invece sfiga delle sfighe non c'ho niente nel terzo ne perdo uno dell'altro allora è ovvio che mi accontento del left e del right ma se posso con il link tu due e in questo caso il link tu uno a due due posso linkare il comportamento stereo quindi questo ne ho fatto il primo ho preso il canale sub dell'sd7 questo l'ho lasciato vuoto perché non uso non c'è un quarto canale vado successivamente e vado a creare il ssl left e right questi sono solo due canali e mi accontento vado da questa parte l'ssl l'ssl left e right e vado nel nove perché mi serve anche il sub dell'ssl quindi avendoli chiamati a quella maniera qua quando adesso vado nel flex channel e devo andare a gestire i miei input che vi consiglio di utilizzare la seconda bancata dei flex channel perché così qua ho il pa nelle cose più importanti qui ho quelli di servizio tipo il dj quelli che mi servono frequentemente questi qui anche se sono più importanti in realtà quando ho cambiato da una band a quell'altra ci avrò due ore che sta sulla band lì quindi questi canali in realtà non mi servono ogni tre per due mi servono quando devo fare il cambio palco fermo restando che se sono furbo una volta che ho messo tutto a posto il cambio palco me lo faccio con una snapshot recall non devo tutte le volte andare a pensare c'è scritto qual è il nome della band che devo richiamare richiamo con la snapshot e vivo sereno ma vedremo anche questo quindi vado a portare l'sd7 left e right e vado a vedere come vado a prendere questi segnali li andrò a prendere se schiaccio e tengo premuto video che in questo momento prendo l'sd7 left dall input manager ora confesso che sono un po pigro siccome ho fatto lo stesso identico seminario in inglese l'altro giorno quando era già tutto bello che pronto mi sono certo no non cancello tutto io lo spiego come l'ho fatto ma non lo rifaccio da zero per cui è chiaro che c'è tutto fatto ma vi spiego come fatto ci siamo ma se dovesse andare a prendere l'input manager del primo canale qui gli do un nome faccio doppio clic seleziono dalla lista dell'input manager e vado a prendere il nome sd7 input manager tech boom se faccio questa cosa qua oppure posso sempre andare nel dsp routing interno siccome sto decidendo di andare scusate sd7 interno sd dsp routing interno sto alimentando dei flex channel li andrò a prendere dagli input manager che mi trova qua input manager e vedete che l'sd7 left input manager va verso l'sd7 come canale questo va quello lì c'è un buco poi qua avrò l'ssl left right e poi c'è l'ssl left right e mono left right sub mi vanno nei miei 8 canali se io vado a rivedere il mio schemino mi devo ancora andarmi a mettere il mio guest left right broadcast left right dj left right announcement e neva siccome siete troppo intelligenti non voglio farvi perdere dell'altro tempo vi dico che i canali del dj li abbiamo già messi qua l'evac facciamo finta che sia quello di lorenzo e questo è il mio microfono per gli announcement quindi io ho già fatto questa roba qua mi mancheranno i broadcast left right facciamo il conto che siano questi vostri canali che è quelli col quale segno mi parla indietro sono i contributi segno ti promuovo a carlo conti di qualcosa carlo conti vediamo se modulano i miei segnali qua eccolo qua li vedete questi li vedete questi questo qua il contributo del broadcast che sia segno corbini da casa sua siena o che sia carlo conti dalla rai dal nostro punto di vista sono due canali left right che modulano e a un certo punto quando ci serve dobbiamo buttarli nel pa ok quindi così abbiamo gestito fisicamente chi deve essere ridondato passa dal meccanismo di ridondanza chi va diretto va diretto e arrivano ai flex channel quindi siamo arrivati qua questo l'abbiamo fatto adesso dobbiamo collegare questi flex channel a questa matrice bene è molto semplice andiamo nel dsp routing anzi prima andiamo a dsp setting andiamo nelle matrici 16x4 andiamo nella seconda perché la prima la streaming è quella che sto usando per fare il seminario e la lascio lì la seconda gli dico ne abbiamo otto di quelle 16x4 la seconda la chiamo live mix e decido che deve avere una struttura di uno stereo e due mono se io ho quattro master in uscita avrò tre opzioni quattro mono una stereo oppure due mono o due stereo per questo live festival di matrici 16x4 io ne uso due una per fare il broadcast mix e una per fare il live mix questa streaming potrebbe tranquillamente già essere quella che mi simula il broadcast mix ad esempio in ogni caso ne ho ancora sei da utilizzare o cinque se siamo già usate tre quindi ne abbiamo che ce ne abbiamo da vendere fatto questo del live mix vado nel dsp routing vado all'interno di quella matrice che si chiama live mix e mi preoccupo di andarci a fare arrivare quelli che sono i flex channel da lsd7 left right babababa ls6l e tutti quegli altri che avevamo detto il dj i broadcast e l'inlevac eccetera eccetera nomino tutti questi questi canali con barra f che vuol dire che mi viene dal flex channel in modo che quando vado nella mia matrice e apro la mia matrice live mix mi trovo esattamente tutto quello che mi serve ecco qui sì che mi piace azzerare tutto e farvi farvi vedere qual è il ragionamento che sto che sto per fare quindi io ho fatto il patch di questa roba qua vabbè i pump pot fatemeli lasciare lì che facciamo prima questo ragioniamo noi abbiamo quando suona lsd7 il left il right e il sub quindi adesso io sto alimentando il left e il right della mia coppia stereo che ho chiamato pa stereo il trattino l trattino r ce l'aggiungo da solo facciamolo tasto destro edit label questo qua è il mio pa stereo basta che io scrivo pa stereo il trattino l trattino r ce l'aggiungo da solo questo è quello che serve per il broadcast sub ce ne fruttiamo per il momento e questo è quello master mono che utilizzeremo per andare alimentare tutti i subwoofer in questione quindi questo è il mio master mono ecco qui vi faccio notare una cosa quando usavate lake tanto per non andarci a girare intorno o quando usavate il galileo non avevate questo tipo di matrice all'interno ma era una roba completamente diversa nel galileo ogni output potevate avere tanti ingressi e qual era la matrice ma ogni output aveva la sua matrice e quindi non era fattibile il lake ogni input e ogni output sono indipendenti e se volevate gestire in maniera univoca dovevate per forza creare gruppi su gruppi quindi il gruppo del left oppure il gruppo dei sub oppure il gruppo dei top oppure il gruppo dei side fill che va bene era l'unica maniera che c'era qui noi non dobbiamo creare nessun gruppo per avere un punto di equalizzazione tutto quello che sarà il nostro pa stereo perché abbiamo una vera e propria matrice che ci somma tutto quindi quando io vado a cacciare un plugin di equalizzazione qui è un vero plugin di equalizzazione su un vero master che se poi io distribuisco questo e lo distribuisco dopo le q sarà equalizzato se per un questione di broadcast io lo voglio prendere prima delle q prenderò semplicemente il mix prima delle q perché così il broadcast me lo equalizzo per il broadcast è chiaro questo concetto quindi è una roba completamente diversa che vi diminuisce drasticamente la quantità di gruppi che dovete creare perché di fatto questo qua è già il gruppo del pa stereo left right di tutto quello che ha una versione left right questo è già il gruppo del pi sub ma è più di un gruppo è un vero master del gruppo del sub e questo se è un vero master voi capite che non solo vi risparmia tempo perché non dovete creare il gruppo ma se ci volete mettere un cazzo di equalizzazione non dovete creare il gruppo delle questioni questo è un vero equalizzatore se volete prendere un passa basso e metterlo nel sub per non rischiare che niente vada e dopo un altro equalizzatore dove qua penso di aver messo un all pass esatto ho messo un all pass io l'all pass lo posso mettere realmente su tutto il feed che vai su buffer se avete un gruppo virtuale col cazzo che vi basta un all pass ve ne serve uno per ogni cazzo di sub che volete andare equalizzare capite che c'è una differenza sostanziale e possono essere soli i vantaggi non gli svantaggi perché se non volete passare da una matrice di questo tipo e fare tutto alla vecchia come facevate con il lake fatelo pure però non state ottimizzando il vostro flusso di lavoro lo potete fare anche con l'MP sia chiaro ma vi andate a complicare la vita per niente quindi questo schema grandi input flex channel un po di matrici per gestire il coso e il tutto e le varie sezioni singole quelle sì esattamente come l'equo il galileo se io ho il mio array left da gestire per l'array left voglio avere indipendente livello di lei se ho bisogno di un ulteriore al pass voglio il mio ulteriore il pass e il mute e se voglio anche un dynamic perché mi gira così non c'è problema su quello che siamo d'accordo che rimane che ogni pezzo che voi date individuare deve essere singolo ma la preproduzione di quello che mandate verso quella roba lì va gestita secondo me in maniera elegante e velocissima con la matrice quindi adesso dobbiamo concentrarci nel mix che mandiamo nella parte stereo del nostro impianto e con parte in stereo ci dobbiamo mettere dentro array left right outfit left right e tutto quanto quindi l'SD7 left right che lo vogliamo mandare direi certo a 0 db quello che deve andare a left va a left quello che deve andare a right va a right l'SD7 sub glielo vogliamo mandare nel PA left right inteso come la porzione stereo della parte non i subwoofer assolutamente no lo lasciamo a mini finito e lo stoppiamo questo sarà qualcosa che andrà solo verso i sub giusto dell'SSIL vogliamo avere il left right certo a 0 db con quello che va a destra e sinistra e anche dell'SSL left right l'SD7 sub uguale come prima assolutamente non nella parte stereo e così via quindi avremo poi gli altri che saranno tutti a 0 db perché questi qua erano tutti sorgenti stereo e il nostro feed stereo una volta fatto questo non lo toccate più per tutto il festival questa è una decisione di indirizzamento statico nessuno vi richiede di andare a cambiare questa roba molto bene adesso andiamo a fare il sub bene il sub geriamo questo perché altrimenti avete già la risposta fatta e dopo non vale perché poi dopo da volate bene col multiselezione avete visto quanto presto fate a gestire i canali eccetera eccetera il il PA left right cioè quello che viene scusate il PA l'SD7 left right che ci dà il fonico deve andare verso i sub non è perché c'è un canale apposta che deve andarci e quindi questo ci andrà a 0 db verso i sub mentre quello dell'S6L quello dell'S6L non ci dà nessun canale da mandarversi sub ma noi abbiamo bisogno di un feed mono per i nostri sub bene allora selezioniamo questo e questo doppio clic su questo meno 6 abbiamo fatto la nostra bella somma mono che derivava dal left right bingo fatto stessa cosa per questo non abbiamo bisogno di sommare questa roba qua perché abbiamo un canale apposta e ci andrà a 0 db mentre tutti questi cari miei sono tutte sorgenti stereo che se vogliamo mandare l'attivamente a al sub li mandiamo a meno 6 db tranne gli ultimi quattro perché gli ultimi quattro sono no scusate tranne gli ultimi due perché questo qua è la voce mia per fare e gli annunci e quindi nel sub anche no e il segnale di evacuazione sub facciamo solo casino e quant'altro quindi la mandiamo qua quindi nella matrice dei sub non ci mandiamo i canali di evacuazione e qui avrei dovuto metterci la label ma ve l'ho detto sono pigro quelle cose che mi interessano meno poi mettiamo i plugin che ci servono sui plugin abbiamo messo degli equalizzatori dove ci servono se ci servono se ci serviva più roba mettevamo più roba tanto poi sappiamo che quando dobbiamo mandare questi master se abbiamo bisogno della versione equalizzata prenderemo il segnale dopo le Q se avremo bisogno dell'equalizzazione prima c'è un segnale prima dell'equalizzazione lo prenderemo qua per cui il problema non ci sarà e quindi torniamo nel nostro schemino abbiamo fatto e finito anche questa parte e abbiamo allarghiamolo il nostro stereo eq su quello che sarà la parte stereo il nostro mono eq che va quello della parte stereo e poi vediamo anche che qui nella parte del sub ci possiamo già anche andare a mettere se vogliamo un bel delay generale di tutti i nostri sub che potrebbe essere un'ottima idea perché una volta che noi abbiamo fatto l'allineamento intra sub cioè tra quello destro tra quello sinistro e tra l'arcarray tra il cardioide se dopo li vogliamo considerare come un tutt'uno da allineare al pa inteso come line array ecco che un delay generale su questi qua ci permette di farlo una volta per tutte senza dover andare a toccare ogni singola porzione di quegli altri che abbiamo così accuratamente messo in fase con i nostri microfonini il nostro smart e quant'altro quindi è una buona idea questa e se è una buona idea andiamoci subito a mettere il delay vedete che è come uno spartito mi ci vuole un delay dopo l'equalizzazione del sub del master del mono bene andiamo abbiamo letto lo spartito questo è il pa sub qui ci abbiamo già messo l'all pass filter ci andiamo anche a mettere un delay ci mettiamo il delay patto questo ho letto lo spartito e ho seguito sul 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 palcoscenico finito quindi qui siamo a posto se tutto questo è chiaro sono le 16 55 mura mi di me sta a fumare cervello bisogno del caffè maori vata a fare caffè anzi adesso mettiamo anche la slide 5 minuti prima perché poi attacchiamo sulla parte di output attacchiamo sul resto nel frattempo segno alias carlo conti dimmi se ci sono delle domande prevenute nel frattempo se no 5 minuti prima riprendiamo 5 minuti prima ci andiamo a fare un caffè ti stupirò ma non abbiamo domande a meno che in questo caso sono due o li abbiamo persi tutti o è tutto chiaro vogliamo propenda per la seconda ipotesi dai siamo ottimisti ma tecnicamente se voglio essere cattivo ti dico che vedo due persone con il triangolino sull'attenzione ma nel senso che hanno momentanamente sono lì che non stanno davanti al computer non diciamo i nomi crediamo suspense poi tutti gli altri 21 sono connessi a te quindi propendiamo per la seconda ipotesi tutti hanno capito tutti stanno seguendo finora tutto molto chiaro allora siccome è un buon perché siamo arrivati già al mixer generale di uscita e dobbiamo affrontare gli output tra un po' non ha senso cominciare per avere tre minuti quindi ci ritroviamo alle 17 07 c'è tra dieci minuti da adesso e ci facciamo l'ultima oretta e tutto sarà molto chiaro alla fine ve lo prometto a presto ok perfetto grazie luca nel frattempo se vi vengono domande scrivetele qua che quando rincominciamo massacchiamo luca lo sapete no bene va bene ci siamo ci siamo tutti segno posso ripartire su un 08 si puoi partire sono sempre le solite persone però puoi ripartire direi che siamo già abbastanza poi si aggiungerà anzi facciamo una considerazione il marrone che ho fatto prima con il sync il cambio del sync che ha costretto dante avere un fault perché stava aspettando da me un riferimento che non gli andava più bene perché ci stavo dando un 96 kHz e lui si aspettava un 48 è semplicemente una delle mille sfighe che o errori che si possono fare questo ci insegna che non possiamo avere solo un metodo di distribuzione così come non possiamo avere solo un metodo per andare a prendere i nostri segnali se noi avessimo avuto l'input manager in quel caso lì i segnali di dante come momento lì non erano disponibili ma noi avevamo già backupato gli input io mi continuavo a sentire perché comunque il sistema si era protetto senza nessun tipo di problema quindi anche quando alla fine del seminario andiamo a vedere come realmente raggiungiamo il nostro PA va benissimo usare dante io non ho niente contro dante come non avrei niente se usaste un altro sistema di distribuzione ma è bene avere un meccanismo alternativo totalmente alternativo e noi col prodigione di puni possiamo avere quanti ne vogliamo di sistemi alternativi sta poi alla sensibilità del designer del system manager capire quanti come sta anche anche la possibilità di cosa abbiamo davvero perché se in fase di ricezione abbiamo degli amplificatori che non hanno la possibilità di avere un input file over c'è poco da fare mi spiego però oggigiorno nei sistemi professionali in senso stretto è difficile che sia un amplificatore o un PA ha un ingresso dante ha solo il dante bene o male l'analogico è ancora disponibile se non addirittura un asebu quindi se noi andiamo avessimo messo in piedi anche la distribuzione alternativa dante con l'analogico con il madio con l'asebu o con qualsiasi altra cosa anche durante quella fase nella quale voi non avete sentito niente voi non avete sentito niente perché da voi passava tutto solo dante ma se fosse stato un amplificatore un PA che avesse avuto una connessione alternativa voi non sentivate più dante ma immediatamente sarebbe scattato meccanismo di ridondanza aver sentito col resto quindi a maggior ragione è chiaro che queste cose sono assolutamente importanti bene andiamo a studiare il nostro meccanismo di output adesso abbiamo capito come fare il nostro mix siamo arrivati fino a qua e quindi andiamo a vedere come abbiamo composto il nostro PA system abbiamo come detto che non ci facciamo mancare di nulla abbiamo ipotizzato di avere un array left quindi il main hang left main hang right out fill left and right up fill left and right poi dei front fill centrali dei front fill laterali ne volete mettere di più ne volete di mettere di meno non cambia il concetto e di canali ne abbiamo finché volete dopodiché non è finita qua avremo una serie di otto mandate indipendenti dal subwoofer quindi la chiamate dal sub 1 all'8 dove in ognuno ci interessa avere la granularità del delay al singolo live al singolo canale livello e di lei ad ogni singola mandata a scusate non avevo detto è naturale e chiaro che per quanto riguarda l'array left and right l'out fill left and right l'out fill left and right vogliamo avere sia l'equalizzatore che il delay sia l'equalizzatore che il delay e ovviamente abbiamo anche essendo dei flex channel questi li utilizzeremo con i flex channel che ne abbiamo ancora a disposizione un po' andiamo ad utilizzare il time adjust se serve ma in questo caso non ci servirà perché abbiamo direttamente il plugin del delay con dei metri da poter fare altro che sample e l'equalizzatore se su queste parti ci serviranno anche degli all pass filter andremo semplicemente mettere un'equalizzazione IIR con l'all pass filter a meno che non abbiamo già risolto il problema di cambiare la pendenza del comportamento del sub o del top a seconda di chi è che arriva prima o di chi è che ha la pendenza più importante con un singolo o con un paio di all pass filter in ogni caso di all pass filter se servono ne abbiamo 32 per cui siamo assolutamente sereni dopodiché abbiamo la bellezza di otto linee di ritardo anche per le linee di ritardo avendo già avuto un'equalizzazione un'equalizzazione generale per tutte le linee di ritardo probabilmente se le linee di ritardo sono coerenti ovvero ottenute con lo stesso PA difficilmente mi vado a equalizzare le linee di ritardo a una a una se il PA non ha un problema e quindi mi basterà avere delle linee indipendenti di delay e di livello e di mute quindi mi vado a ipotizzare ben otto dal processore dal processore direttamente otto linee di delay allora se io faccio un po di conti ho otto linee di delay otto linee di subwoofer otto linee di PA main chiamiamolo così tra array left right out fill out fill front front fill sono già 24 linee indipendenti cazzo tu mi hai gestito 24 linee indipendenti più mai gestito 16 ingressi per il live e altri quanti sono 2 4 6 8 ingressi per il broadcast o quelle che sono i contributi broadcast vedete che siamo ben oltre i 32 flex channel e di conseguenza se i 32 flex channel sono 32 come mi gestisci quelli che non sono il PA left e right e gli altri che questi li facciamo con otto flex channel li facciamo tranquillamente con questo barbatrucco che non è un barbatrucco è una funzionalità dove noi ne abbiamo quanti ne vogliamo se noi andiamo ad utilizzare una matrice 8 per 8 per alimentare il subwoofer ad esempio lato ingresso ci basterà un semplice main input che è quello che viene dal subwoofer master della matrice principale ma gli otto master di questa matrice sono né più né meno dei canali full processing esattamente come flex channel che è esattamente quello che ci serve abbiamo un livello abbiamo tutti i plugin che possiamo andare a mettere e infatti ci metteremo un plugin di delay per ogni delay e quindi ne abbiamo otto di quanti ne abbiamo di questa disposizione ne abbiamo ben dsp metix 8 8 ne abbiamo ben otto 1 2 3 4 5 6 7 8 se questi sono otto master dove posso mettermi tutto quello che mi pare e mettere quattro plugin cada uno già solo con questa sezione di matrice 8 per 8 io ho 64 porzioni di pi diverse che posso gestire più ne abbiamo 4 per 8 32 con le matrici 16 per 4 più i 32 flex channel direi che ci facciamo le olimpiadi di due anni consecutivi senza bisogno di comprare un secondo pro di gmp a livello di gestione del singolo canale poi è ovvio che a un certo punto qualcuno finisce le risorse quando hai finito i 64 equalizzatori che ho o ma 64 equalizzatori ma davvero e 32 fire 32 ai ai ar quando abbiamo finito i 32 lunghi di lei 32 di lei lunghi non bastano per gestire una cosa del genere 32 plugin di dinamica non bastano ma è ovvio che bastano in ogni caso udite udite abbiamo 128 plugin esterni se serve quindi un cazzo di waves sullo stesso computer anche interna per gestire un delay volendo ne avete quanti ne volete l'importante è poter gestire attraverso lo stesso workflow ricordando le memorie ricordando le possibilità di incroci che abbiamo qua dentro 416 input 416 output andiamo a gestire la qualsivoglia quantità di canali un po per il pa un po per il broadcast un po per registrazione un po per il virtual sound check un po per quello che cavolo che volete voi quindi stiamo sul pezzo e andiamo a capire com'è fatta questa roba qua quindi utilizzerò una matrice 8 per 8 per gestire gli 8 main send dei miei subwoofer un'altra matrice 8 per 8 per gestire le otto linee di lei ma a monte di queste c'è un altro trick che vi insegno non ci sono arrivato subito anch'io è pensando come si poteva fare e questa è una chicca che vi che vi regalo perché com'è fatta questa è fatta con un'altra matrice 8 per 8 che l'ha chiamato che l'ho chiamata mono manager che mi permette di fare arrivare qua dentro il pa left e right che viene dall'altra matrice dove scegliamo una volta per tutte qual è la console che sta funzionando in questo momento o il mix delle varie console che stanno funzionando in questo momento e siccome per me la parte del mono ecco perché si chiama mono manager è comunque un risultato di quello che avviene nel left e nel right qualunque esso sia io mi vado a creare dei feed dentro a questa matrice mono e ci vado a mandare il pa stereo left e right nudo e crudo senza equalizzazione aggiuntive ci vado a fare la versione disponibile del pa con l'equalizzatore ci vado a mettere gli stessi pa con l'equalizzatore e gli all pass filter se mi servono gli all pass filter e ci vado a mettere il delay con gli all pass filter i filter normali il delay e anche il il compressore se mi serve una volta che ci sono disponibili come sorgenti in questa matrice mi vado a creare dei ma mono master dry senza niente che è la somma di meno 6 db di questi due qua dentro questa matrice la stessa cosa mi faccio con la versione equalizzata equalizzata con anche il l'all pass filter equalizzata con l'all pass filter il dynamic e poi mi vado a fare un master per il delay del mono scusate un mono master per il delay master siccome questo è un output di una matrice può diventare tranquillamente quello che fa il drive di tutta la matrice master quindi siccome il delay io ci mando la somma left right a meno 6 db ci vado a metterla non equalizzata perché così mi tengo eventualmente oppure equalizzata se questa è una scelta vostra artistica ci sono dei pietra di voi voi solitamente quello che mandate verso le delay line volete in qualche modo ereditare l'equalizzazione che fate per il main oppure no bene qui la scegliete prendete questi segnali qui e fate la somma mono se li volete dry e avere un'equalizzazione diversa esclusivamente per il vostro mono dei delay oppure se vi piace che comunque l'idea è che tutto quello che è qualizzazione del piei includa anche il il delay prendete questa cosa che dopo l'equalizzatore ma prima dell'all pass perché l'all pass non c'entra un cazzo col piei non è problema non dovete fare un'altra matrice per quello è semplicemente il punto di perlivo del segnale che mandate qua e lo sommate che mettete morale questo delay master diventa quello che poi vi va alimentare la matrice seguite questo coso blu che mi va alimentare questa matrice quindi il mio delay master mi vado e poi qui dice luca perché ce ne sono due ipotizziamo che questi delay otto linee di delay siano talmente distanti tra l'una e l'altra abbiamo tutti i fori imperiali il campo volo di reggio miglia e che ha perdita d'occhio delle torri di ritardo quanto di lei mi serve un sacco perché l'ultima laggiù deve essere ritardata di chilometri a me è capitato di fare la giornata mondiale del papa in un paio d'occasioni l'ultimo progetto dal quale ho partecipato c'erano cinque chilometri quadrati di line array distribuiti in giro avete presente quanto di lei ti serve per comprire cinque chilometri quadrati tanto allora lì si sono fatti dei cerchi di di lei concentrici dove avevi cerchi di di lei e ogni e ogni di lei partiva da già un di lei fatto quindi arrivato da lì ci aggiungevi solo la distanza del vero e quindi hai bisogno di tanti di lei in questo caso siccome abbiamo una matrice che ci serve per andare a alimentare di lei facciamo che il master arriva con già un valore di di lei importante al numero uno oppure senza di lei aggiunto e con già un di lei aggiunto tanto il segnale il medesimo semplicemente ritardato nel tempo poi se queste sono ancora vicine e ci basta di lei che mettiamo qua bene se queste qua sono talmente lontane che non ci arriviamo con di lei e basta gli daremo questo segnale l'ingresso che ha già un botto di lei aggiuntivo nel quale poi andremo a mettere quelli semplicemente peculiar cioè quelli specifici per fare l'allineamento quello vero in buona sostanza queste sono solo idee ma vi fa capire che non c'è è come leggere lo spartito fate bene lo spartito guardate a modo la complessità del vostro pa disegnate bene questo schemino e dopo è un gioco da ragazzi andarla a fare sul prodigi avete tutti gli ingredienti che vi servono per andarla a fare e quindi adesso andiamo ad analizzare pezzo per pezzo la prima cosa che dobbiamo andare a fare è il mono manager come andiamo a fare questo mono manager prendiamo una matrice 8x8 e gli facciamo arrivare il PA left right nelle versioni non equalizzato equalizzato dopo il primo plugin dopo il secondo dopo il terzo intanto ci portiamo in questa condizione bene andiamo nel dsp andiamo nel dsp setting andiamo una matrice 8x8 andiamo nella 2 la chiamiamo mono manager e ci interessano 8 mono tutta la vita a questo punto il pallo non conta niente perché non c'è niente di stereo per cui il pallo fotitene ma se avessimo bisogno di prendere degli stereo ogni matrice ha il suo pallo assolutamente selezionabile l'otto mono manager ci abbiamo otto master perché questi otto master saranno proprio quelli che ci servono per andare a decidere dove mandarli ulteriormente andiamo qua dentro andiamo nel mono manager e vediamo cosa gli abbiamo mandato abbiamo mandato il PA stereo left right dry e quindi veniva dalla matrice poi gli abbiamo mandato quello con semplicemente le Q e poi ci vendiamo tutti quelli che ci servono ulteriormente e poi l'ultimo master che l'abbiamo chiamato delay send ci abbiamo messo già due delay quindi noi possiamo prendere quando manderemo all'altra matrice che gestisce il delay il segnale non ritardato un primo livello di ritardo fino a 1,3 secondi oppure un altro delay aggiunto fino a un altro 2 con 2,6 secondi di delay già lo prendiamo qua quando decideremo gli mandiamo tutti i tre i segnali nell'altra matrice e senza preoccuparci non andare a toccare più niente di questa roba qua avremo già fatto i nostri livelli di delay per le distanze quelle stratosferiche mentre ci andiamo a creare dei mono qua che sono il mono dry quindi non equalizzato e quello equalizzato e successivamente nella nostra strategia di indirizzamento avremo la possibilità di andare a scegliere dove ci serve quello pulito non equalizzato globale non ci andrà dove ci serve invece quello equalizzato semplicemente distribuiremo questo segnale passiamo dal dsp routing e andiamo a vedere cosa abbiamo mandato verso il nostro mono manager andiamo a selezionare il nostro mono manager e andiamo a vedere cosa abbiamo buttato dentro questa roba qua reveal source e vedete questa fantastica cosa fammela e ingrandire un po' quindi tutto viene della matrice che si chiama pa stereo left right però questa viene dai father questa viene dopo il primo plugin questo dopo il secondo plugin questo dopo il secondo plugin quindi se io faccio il click la prima volta questo è il default pick of point quindi di un output top of the channel cioè tutto incluso master father e tutti gli equalizzatori tutte le cose tutti i dsp se io mi accontento della cosa standard bene faccio la cosa standard siamo se non mi accontento della cosa standard e voglio prendere un pick of point di tipo diverso vado sopra il patch point appena fatto tasto destro e scelgo dove vuoi il segnale solo dopo il father dopo l'equalizzatore dopo il secondo plugin dopo il terzo plugin o quello standard che è quello che è tutto compreso in questo caso lo voglio dry quindi voglio solo il father e ti viene la f nel cross point che ti fa vedere che quello è un pick of point di uno che ci capisce non quello che è solo il default questo qui lo so io perché mi serve prima del equalizzatore per cui lo mando lì ma questa cosa qua ti fa risparmiare un sacco di processamento un sacco di cose io non devo andare a fare un'altra matrice perché non la voglio equalizzato è la stessa identica matrice e poi scelgo il punto di pick of nel master che è una roba diversa non mi devo preoccupare oddio abbasso il segnale allora devo farlo anche nella l'altro e quindi mi crea un altro gruppo su un altro gruppo su un altro gruppo non solo farete molto prima a gestire il vostra cosa in fase di setup ma anche in fase di festival quando fate un intervento fatto da una parte dove tutto deve succedere le cose automatiche non dovete fare 50.000 movimenti avete tutto molto più sotto controllo fatto questo il mono manager è fatto andiamo a vedere allora come creiamo poi la matrice di mono manager questo mi piace perdici 5 minuti 20 se serve perché queste sono le cose nuove che non avete mai visto da nessun'altra parte perché i processori che avete usato fino adesso non ve lo permettevano per cui qui sì che se ci sono domande o se non è chiaro ci torniamo tutto il resto è roba che bene o male avete sempre fatto non vi ho detto niente di straordinariamente diverso e quindi andiamo a vedere quando vado a fare il mono drive doppio clic su questo quali sono i canali che ci mando prendo lo stereo left right e faccio la somma meno 6db questo è il esattamente quello che succede nella parte left right della matrice mi succede sommata meno 6db e tutto esce nel mio mono drive e qua dentro io non devo metterci nessun processamento questo semplicemente mi fa una somma tra left right e questa roba qua il mono eq semplicemente prendo gli altri due prendo gli altri due perché questi mi arrivano quelli equalizzati se sono bravo a mettere le label non mi confondo questo è quello piester left right comprensivo di eq e ancora una volta lo sommo meno 6db e già comprensivo di eq e lo butto qua dentro qua non c'è niente perché non mi sono serviti mentre vado nel delay send il delay in questo momento ho deciso di includerci anche le q se voi siete dell'idea che il delay non debbano essere intaccati dall'equalizzazione che fate per il main non fate altro che prendere questi due e riportarli a zero prendere questi altri due e metterli a meno 6 e avete già fatto quello che dovete fare a livello di scelta con la indipendenza delle cose quello che mettete qui esce verso il delay send in questo caso questa equalizzazione che voi fate nella matrice del live mix sul PA e l'ester right sappiate che questa equalizzazione che farete qua non impatterà sul vostro master delay perché così avete deciso se vi piace l'idea invece che quello deve essere compreso una volta per tutte andate qua dentro e anziché mandarci questi segnali ci mandate questi due e voi avete già fatto il problema per il mono del delay voi non dovete più fare niente andrete a mettere a decidere due grossi step di delay giusto per guadagnare un sacco di posto e poi anche questi non li toccherete più perché poi andrete a lavorare singolarmente sui vari delay individuali questo qua serve solo per allungare clamorosamente la capacità di quantità di delay da mandare fuori finito il mono manager non toccate più il mono manager sarà disponibile ogni qual volta voi avete bisogno di mandare fuori qualcosa quando c'è il mono manager abbiamo il mono drive disponibile il mono con le q e il delay send che ci servirà ci servirà da mandare adesso e invece alle altre cose quindi il mono manager l'abbiamo capito l'abbiamo fatto adesso andiamo abbiamo messo le q il delay e il delay ecco in realtà le q non l'ho messo quindi andiamo ce la mettere abbiamo detto che mi facevi possibilità comunque di riequalizzare tutti i delay qualora ne ce ne fosse bisogno ancora una volta non è un problema di cosa mandi qua qui può essere già equalizzato nel quello globale oppure decidere non lo voglio equalizzato globale ma mi tengo un eq da giocarmi per il master del delay perché non si sa mai che devo fare un aggiustamento solo esclusivamente su tutti i delay in una volta sola allora ando a mettere un eq qua se questa cosa è una cosa che mi serve non c'è problema torno sul master qua vado qua dentro lo voglio prima o dopo delle q beh dopo del delay mi sembra assolutamente intelligente muovere questo nella posizione dell'insert 3 questo qui metterlo nell'insert 2 quindi li muovo metti che avessi già calcolato dei delay faccio il posto e qua dentro ci metto le q che mi serve e ci metto il mio q finito quindi sono ho letto lo spartito e sono andato a farlo sulla mia della mia macchina e ho già fatto magari per non saperne leggerne scrivere già che ci sono faccio un mela s mi salva il mio progetto metti che qualcosa tutto questo che scelte che ho fatto fino adesso rimango fermo restando che sulla macchina l'ultima impostazione che fate rimane sempre per cui comunque quello che avete fatto in questo momento è impossibile perderlo bene fatto questo io sono pronto devo andare ad alimentare il mio array left right tutti gli altri da dove li prendo i segnali quelli che sono array left right outfield left right outfield left right li prendo direttamente dalla matrice principale quello che sono i front field center right siccome bisogna alimentarli mono li prenderò da uno dei mono manager e prenderò il mono manager che mi interessa di più che tra l'altro mi fa anche da master per i front field se proprio voglio oh sono solo due ma metti che voglio un master front field ce l'ho già è questo qui mi viene fuori dall'output di questa matrice come si fa torno qui leggo lo spartito e dico bene vado nei miei flex channel questi sono il mio array left array lie outfield left qui sì che sono i canali di output processing post feather style dove ci metto un EQ e un delay singolo qual è il segnale che gli arriva qua questo viene dalla PA stereo left all'insert 4 tutto compreso che è una matrix del master nell'insert punto numero 4 lo vediamo meglio nel DSP routing andiamo in DSP routing andiamo verso i flex channel questi sono i miei array left right outfield left right tasto destro rivela la sorgente vedete che arriva da left right left right left right se vi piace girare la stereofonia degli outfield a me sinceramente ho fatto molto poco il PA ma quando ho potuto dare la mia opinione piuttosto che avere il phasing tra il main hang e l'outfield che ci mettete di fianco comunque un pochino l'ho mitico mettendo e girando left right e comunque ha un effetto un po stereo se voglio lì tra il main e il coso gli sfigati che sono totalmente da una parte hanno comunque un'idea di coso e mi aiuta anche un discorso di di phasing o di mal allineamento però io non voglio criticare c'è chi dice che questo è profondamente sbagliato c'è chi dice che questo è profondamente giusto io vi dico fate come cazzo volete se volete farlo left right left right proprio tamugno così bene se volete invertite fate questa cosa qua quindi più facile di così si muore visto che dopo giochiamo con i mute per vedere se ci abbiamo preso o meno teniamoli per il momento in questo modo in modo che tutto il left sarà left tutto il right sarà right altrimenti pare che abbiamo fatto un errore quindi le porzioni quelle porzioni che hanno uno stereo left right prendono direttamente dalla matrice a che punto di equalizzazione beh l'abbiamo fatta apposta e quindi è chiaro che la prendo tutto compreso se ci mette un all pass filter voglio che ci dice anche l'all pass filter ma attenzione che se noi vogliamo mettere un all pass filter che serve solo esclusivamente per l'array left right e non lo vogliamo per l'out fill all front fill sarebbe sufficiente facciamolo mettiamo un all pass filter qua mettiamo un all pass filter qua e gli diciamo che questo l'all pass filter vale solo per il main gli out fill sì ma gli up fill no allora noi facciamo questo e lo prendiamo prima dell'all pass filter dov'è il problema è chiaro la potenza della faccenda tra l'altro ne abbiamo messo solo all right e quindi sarebbe meglio metterlo anche all right quindi ci mettiamo un all pass filter anche qua e è meglio quindi se io volessi comunque usare la stessa matrice ci metto il filtro normale l'all pass filter su l'array left right ci va anche l'all pass filter su quelli che sono gli up fill giustamente magari sono anche casse diverse eccetera con un comportamento di fase completamente diverso non è che vado a sminchiare la fase giusto perché voglio usare la stessa matrice per cui prendo il segnale prima tanto sono tre sample e in ogni caso quando vado a fare il delay quei tre sample quando vado a giusti a giustificarmi non giustificarmi ad allineare esattamente questa roba qua se devo compensare quei tre sample in meno perché non passano dall'all pass filter frega perché tanto vado a calcolare il delay con smart e quindi se proprio proprio sono così autistico che tre sample nell'allineamento di un up fill mi fanno mi danno da fare bene li compenso quando vado a calcolare quel delay per cui problemi zero il front fill viene da un mono perché questo è mono quindi dove lo prenderò lo prenderò dal mio mono equalizzato perché mi piace l'idea che quando equalizzo il PA equalizzo anche il front fill perché quell'equalizzazione che androva sulla matrice è un'equalizzazione correzione lì per lì è una cosa generale esattamente come quella che voi facevate su quel gruppone esagerato che si chiamava main PA e robe varie se non vi piace quello e volete darlo dry ai front fill sapete cosa fate prendete il mono dry non c'è problema fate quello che volete voi addirittura potreste anche complicarvi la vita quelli centrali li mando equalizzati quegli altri adesso non scherziamo ovviamente ci siamo e questo è tutto quello che dovete fare bene poi cosa abbiamo abbiamo i subwoofer bene allora andiamo nei subwoofer come alimentiamo il subwoofer questo è il subwoofer come linea da alimentare quello che abbiamo creato subwoofer manager quindi ci basta una sola esclusivamente matrice che ci manda il PA sub che è quella master che abbiamo che alimenta il PA sub qua dentro tutte le decisioni che prenderemo la low pass l'eq l'eventuale delay globale che mettiamo qui sicuramente questo è un all pass filter perché qua ci ho messo quello fir e qui ci ho messo l'all pass filter quindi tutto quello che decidiamo lo mandiamo alla matrice di mono manager la matrice di mono manager quando andremo ad utilizzare che è questa subwoofer manager tutti i subwoofer devono ricevere questo segnale adesso fatemi aprire una delle sorgenti delle nostre matrici quindi sd7 left right anzi apriamo quella del sub che se abbiamo fatto fino adesso funziona arrivo che il mio sub arriva io voglio azzerare tutte queste mandate in un colpo solo per cui uso il tasto absolute se faccio absolute tutti i canali 1 in questo caso il PA sub mi vengono portati esattamente dove porto il father in tutti questi master quindi io così azzero tutto quindi io ho azzerato tutto questa è la disponibilità del master sub che mi arriva dal master e io voglio mandarli a tutti questi sub contemporaneamente rischiaccio absolute ottengo rimuto il tasto a nella tastiera che è la stessa cosa porto questo a 0 db e tutti i miei segnali a 0 db non devo neanche fare la fatica di andare quando sono tutti uguali faccio direttamente così e sono già a posto adesso ogni sub ha il suo bel di lei che glielo ho messo ad uno alla volta e tutta questa roba qua io mica dovrò andare a corrermi dove sono dette la roba uno può pensare è però adesso luca l'hai fatta talmente tanto complicata che dove vado a cercarla e la roba che mi serve allora io vi dico che questa roba qua ve la prendete ve la mettete fuori e ve la mettete dove volete quindi se fate le cose fatte per benino e la mettete dove serve ve le faccio vedere questa roba qua non dovete su assolutamente andarmela a prendere la faccio breve vi richiamo un layout che ho precedentemente utilizzato io quando vado davanti a questa roba qua ho tutto quello che mi serve input output master e addirittura roba che nel vostro festival non ce l'avrete oppure ce l'avrete perché potete immaginare che questo streaming in realtà è la vostra matrice di broadcast e questo è il vostro local monitor che è magari il backstage il produttore musicale quant'altro quindi e veriti era anche questo qui avete i servizi il dj e l'announcement e le altre cose il carlo conti qui avete le vostre console principale nelle quali ho al momento aperto solo il subwoofer giusto il main del subwoofer che va e tutti i sub che vanno bingo stop il subwoofer mi deve fermarsi tutti i subwoofer apro il left deve andarmi tutto il left ci siamo chiaramente quello linkato stereo left e right tale per cui mi si è aperto sia left che right quindi a questo punto smuto cioè slinco il discorso del left e right in modo che io possa anche andare durante le fasi di test muto solo il left e quindi mi aspetto che mi vada la matrice master left e right generale tutti i delay a meno 6 db perché manca un a meno 3 dunque se a meno 6 rispetto alla cosa generale infatti guardate questo viaggia sui meno 6 questo viaggia sui meno 12 tra l'altro vi faccio notare che nell'ultimo release di glock abbiamo aggiornato abbiamo aggiunto anche questa figata che è il pick me il pick value inteso come digit non solo la stranghettina che non ci legge mai un cazzo questo qui quanto deve rimanere questo pick all'infinito deve rimanere veloce no andate nelle opzioni e andate nei settings e digite guarda che io voglio quello lì che il mio pick hold deve essere infinito quindi finché non lo resetto tu mi tieni il massimo che la macchina ha avuto quando faccio due più click su uno di questi resetto il pick e lui mi aggiorna il picco quindi è giusto che se io faccio solo left e right il delay che è calcolato mono ci siano esattamente 6 db di differenza è matematico se qua sono a meno 3 9 qua deve essere a meno 9 9 non fa una piega se io mollo anche il left quello lì mi deve andare assolutamente pari quindi dategli tempo di ricalcolare il picco a parte che ci sono le equalizzazioni eventuali che ho messo eccetera ma è normale è giusto il picco ricalcolato da questa roba qua deve essere adesso non ci deve essere più la differenza perché sommo il left e right quindi tutti questi sono sommati correttamente tutti gli altri i sub sono mutati per forza non è una somma left e right che mi viene dall sd7 quando lsd7 è un canale separato per cui sarà quando mollo il mute che mi va il sub vedete che voi avete davanti tutto avete il valore del delay avete la preview dell'equalizzazione che avete e poi comunque con i layout personalizzabili potete fare tutti i layout che volete quando vi dovete concentrare sul delay quando vi dovete concentrare su smart sull'equalizzazione solo l'equalizzazione del top rispetto al sub l'allineamento la fase abbiamo già visto l'integrazione di smart l'altro giorno abbiamo già visti filtri non stiamo a ripetere tutte le altre cose abbiamo detto che ci concentravamo su quello che serve sul PA system siamo quasi in fondo abbiamo già quasi tutto non perdiamo tempo allineare l'impianto perché l'impianto l'abbiamo solo virtuale non ce l'abbiamo ma ci manca ancora un passo fondamentale non siamo ancora usciti dal processore come faccio ad arrivare al mio PA come li collego le varie cose che ho per il resto c'è tutto pronto prima di passare a questo meccanismo di l'ultimo miglio cioè andiamo fuori dal processore e arriviamo al coso vi faccio anche notare che se questa è la situazione sd7 left right e sub vado nella mia snapshot e questo qua è una nuova snapshot dove questa qua si chiama band che suona con l'Sd7 ci metterò il nome della band così non mi sbaglio mi interessa che cambi il sincronismo quando fanno questo band per l'amor di dio non ci pensare nemmeno lascia tanto cagnente bene però quello che mi servirà che cambi è cazzo semplicemente sull'esclusivamente i livelli e i mute dei segnali della console che sto andando giusto anzi ti dirò di più luca sarebbe meglio che tu prima facessi una snapshot che si chiama changeover o cambio palco e mi muta tutto mi lascia aperto solo esclusivamente il dj e il microfono del dj se ce l'ho in modo che io intanto cambio calvo le console si attaccano si staccano line check fanno arriva non arriva non rischio a far puttanate benissimo ci sarà una snapshot apposta per quello se però io quando richiamo la band sd7 vado a richiamare dalla snapshot solo quello che mi interessa e quello che mi interessa saranno solo ed esclusivamente dei canali aperti di flex channel quindi vado qua dentro e inserisco nella snapshot voglio completamente il canale del questo 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 che sono le mie varie console questo è l'unica cosa perché potevo venire da qualsiasi gruppo o qualsiasi altra cosa e quello che mi deve chiamare la situazione di questi mute il pa sarà aperto non era aperto deve rimanere tale io so che quando richiamo la la cosa della band che suona con l'Sd7 ho messo il recall solo delle mie sorgenti di input non tocco minimamente il mio pa se non devo toccarlo ma voglio anche che l'Sd7 ci siano anche i valori del plugin quindi se ho fatto delle equalizzazioni su questa band quando richiamo quella band metti anche che io l'abbia cambiata durante le altre cose se quella band ha bisogno di quella equalizzazione chiaramente mi vado ad accertare che anche l'equalizzazione sia inclusa torno nella snapshot e vado a vedere qual è il panorama degli scope set che mi servono c'è un po' di internal routing perché di fatto i plugin sono bypassati o meno è considerato un routing perché di fatto se tu bypassi un plugin dal punto di vista di l'opcon bypassare il plugin non vuol dire mettere il plugin in bypass vuol dire in questo caso vuol dire non passarci dentro proprio come 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 audio e quindi è giusto che ci sia accertiamoci che sia come nella snapshot vado a richiamare lo stato di quei plugin come mai arancione non è rosso perché solo una parte se è grigio non sto richiamando niente relativamente a questa diciamo area uno scope detail quindi degli input non cambia un cazzo degli output routing non cambia niente non cambia niente dei sync dei setting dei global mute cambio qualcosa della dsp qualcosa dell'internet routing che cose in particolare quattro flex channel un po' di flex channel un po' di plugin quali ci clicco sopra e ho tutti i dettagli che mi servono la gestione delle snapshot è una roba granulare al massimo che vi può comparire o apparire un po' complicata ma se siete abituati a usare le console non vi spaventate perché è esattamente più potente della vostra console semplicemente perché non dovete fare scelte o parametro o canale voi avete tutti i parametri di tutti i canali di tutto il processore per cui se ti dico non mi toccare l'SRC o il clock non me lo tocchi se invece io ti dico con questa band mi devo assolutamente accertare che l'SRC del madi sia acceso sia all'ingresso e al ritorno perché magari quell'altra non ce l'aveva non ce l'aveva voglio anche accertarmi che l'SRC non venga dimenticata quando suona quella band perfetto allora glielo inserisco ci siamo siete voi che decidete che cosa deve essere richiamata nella snapshot e quindi io sono a posto e questo sono contento così dopodiché torno nelle mie DSP e dico quando questa band non suona e deve suonare quella dell'S6L mi sono accorto che la cosa perché funzioni bene questa questa perché sia diciamo così come dire funzionale a quello che era la scelta fatta questo qua deve essere a meno 5 a meno 5 db e quindi quando suona questa band mi devo anche accertare che se per caso qualcosa è cambiato qua quando questa sia anche 5 db siccome quando io ho fatto questa snapshot il DSP no DSP i parametri erano già uguali a quelli che c'erano quando faccio una nuova snapshot è assolutamente tutto uguale quindi questa qua è la band non il contenuto della snapshot ma il contenuto dello scope set band S6L vado vado solo con una piccola particolarità l'S6L non arriva da questo modi ma arriva da quell'altro per cui questo lo lascio comunque come era non lo vado a richiamare mentre mi è certo che ci sia nel numero 2 questa è l'unica cosa che cambia tra una band e l'altra per il resto il PA non me ne frega niente non deve essere toccato come l'ho lasciato in quell'istante lì lui deve tornare dentro bene siccome poi a me piace l'idea che non debba andare neanche nella pagina delle snapshot ma io con due shortcut o con un ipad fuori con un touch osc faccio i miei trigger adesso non perdo tempo a fare vedere il touch successivo che abbiamo fatto vedere l'altra volta se no faremo un altro approfondimento l'altra volta mi invento un trigger alvoro che vuol dire b1 e b2 la band numero 1 la band numero 2 facciamo una cosa questa snapshot che ho fatto prima la togliamo dai coglioni no ho fatto edit ma invece volevo fare delete in modo che torna tutto band 1 e band 2 la band 1 la voglio triggerare con un shortcut quindi con una combinazione di tasti sulla mia tastiera premo il tasto b premo il tasto 1 la combinazione di b più 1 è quello che mi richiamerà la band numero 1 così come la combinazione dei tasti learn b2 mi richiamerà non me l'ha preso b2 mi richiamerà il tasto 2 c'erano degli trigger precedenti sotto un pilla perché li avrei dovuti cancellare e infatti ho fatto del casino non c'è problema insegno come si fa vado nei miei trigger prendo tutti i miei trigger che sono del keyboard manager li seleziono tutti li caccio via questi erano da un precedente progetto e di conseguenza mi andavo a incasinare perché mi chiamavo una snapshot mentre cosavo l'altra siccome la mia snapshot che richiamo non può aver fatto danni perché erano tutte salvate e c'erano lo scope set io vado tranquillamente qui rifaccio b1 mi richiama la prima snapshot e b2 mi chiamerà la seconda snapshot dal key learn b2 bene adesso io vi dico richiamo il mio layout che si chiama PA management è tutto regolare sono sulla band numero uno se voglio passare dal change over tac 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 mio PA muto anzi il change over ci ha aperto il dj apriamo il dj ecco qua il dj e apriamo il microfono del dj che è questo qua di lorenzo bene questa è la situazione di change over tutto il resto è mutato ci siamo come mai il dj non mi andando nell'impianto luca qualcuno di voi avrà detto mh sei mica tanto bravo perché evidentemente questi non erano i canali previsti per il dj ma rimediamo subito volete vedere che rimediamo subito come faccio come mai non mi va nel PA doppio clic qua spill ops non mi sono dimenticato il dj ah il dj era qua in fondo source double click flex channel dj left tac double click double channel dj right boom fatto devo andarmi a impegnare da qualche altra parte il sub non il sub no è già tutto fatto ragazzi è già tutto fatto l'ho fatto prima ma com'è il dj non va nei sub è perché quei due li quei due pirla di cose che ho messo lì non era assegnato quindi vado nel PA sub e gli dico che voglio anche il dj a meno 6 db avete capito questo è un bel ripassone di quello che abbiamo fatto non più 6 ma meno 6 qua e meno 6 qua e io sono già a posto ho già fatto anche sistemato il discorso del dj sono a posto questo è il mio changeover quindi vado nelle snapshot mi faccio una via bella new e questo qua si chiama changeover cambio palco perché siamo italiani orgogliosi cambio palco e questo cambio palco devo accertarmi che abbia tutto quello che serve attenzione che nel cambio palco devo andare a includere un po più di cose devo andare a includere per non leggerne scrivere anche queste robe qua quindi c'è tutta questa roba qui ma il PA lo lascio fuori quindi questo è il suo complesso e anche l'eventuale qualizzazione che metto a la voce del dj e quant'altro durante il cambio di palco io voglio che mi venga richiamato questa roba e solo questa roba con questa situazione di livelli con questa situazione di mute fatto cambio palco è a posto per me il cambio palco è la band 0 per cui la voglio richiamare con la B0 schiaccio B0 questo è il mio cambio palco B0 assign finito torno nel mio dsp anzi richiamo il mio PA management sono a posto sta andando il dj quindi sono in situazione di cambio cambio palco è pronto tutto quanto e voglio passare alla band numero 2 B2 ho schiacciato B2 il dj viene mutato il ecco benissimo grande cosa è vero che la band è partita tutto a posto ma nella band 2 io avevo detto che non avrei toccato il canale del dj quindi dj era ancora la che vado ah luca allora vedi che è bene provare le snapshot vai nelle snapshot e accertati che quello che tu hai messo nel cambio palco della band muti anche il dj oppure ancora meglio io dico fai una nuova snapshot che è un vero mute tutto perché il mio microfono è meglio se lo lascio aperto altrimenti non lo sentite ci siamo fai veramente una snapshot che si chiama non dj ma si chiama cambio palco che ti permette anche di avere quell'attimo quel tre secondi quello un secondo se ti serve di mute vero per il quale tu passi da lì in modo che il dj ha tempo di staccare o vuoi di partire è una cosa che dovete scegliere voi avrei potuto tranquillamente includere questi mute nelle varie cose delle band che comunque è sano andargli a mettere quindi è una cosa che comunque nelle snapshot vi consiglio di andare metti che tu vada direttamente al richiamo di quella roba lì se il dj sta suonando tu lo muti giusto quindi per fare questo non dovete cambiare il contenuto della snapshot il contenuto della snapshot era già giusto semplicemente dovete andare a aggiungere in quella snapshot che questi canali alt clic su questo siano compresi nel nel vostro scope set e a questo punto avete già risolto il problema avete cambiato il la snapshot di questa di questa band andiamo a cambiare il lo scope set anche di questa e andiamo a metterci che anche queste devono essere mutate o incluse non mutate incluse nel recall delle vostre della vostra snapshot a questo punto il mio tutorial lo posso fare o meno ma quando io passo dal change over a quell'altro sono assolutamente certo che è tutto a posto richiamo alla mia main la mia layout PA management ho tenuto aperto solo il mio microfono per farvi parlare per sentire di quello che sto usando davvero il prodigy per parlarvi quindi devo che quello devo tenerlo aperto sono in condizioni di change over adesso vado con la band numero uno schiaccio B1 si aperta la band numero uno chiaro che se la band stava già suonando arriva di botto se la band si apre fa tac 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 e parte col pezzo il pezzo si aprirà adesso io vado di snapshot con la band numero due oh c'ho il cambio palco perfetto l'avevo fatto il cambio palco per cui andiamo a fare il cambio palco l'ho fatto anche non mi ricordo se gli ho messo B0 gli ho messo B0 si l'ho messo perfetto ho messo un fulminato B0 cambio palco tac ecco che il dj è partito dovreste sentirlo anche voi perché dovrebbe venire anche verso il broadcast ci siamo dopodiché io torno sulla band numero due quindi faccio B2 e mi si aprirà l'S6L anziché quell'altro e tutto il mio ph l'ho sotto controllo e ce l'ho qua ho saltato tutta la parte di allineamento equalizzazione all pass lo sapete fare meglio di me non devo certo insegnare via come farlo abbiamo già visto l'altro giorno l'integrazione con smart poi avete tutte le integrazioni di smart che vi servono adesso negli ultimi nove minuti che ci rimangono di questo seminario dobbiamo vedere l'ultimo miglio cioè usciamo dal processore e alimentiamo i nostri finali con il nostro sistema se non ci sono delle domande o possiamo andare alla parte finale allora vedo che c'è un una domanda che riguarda i fade fra le snapshot ci sono fade fra le snapshot non ancora ma ci sarà prima scusate ma di attraverso l'acqua prima dobbiamo portare le snapshot da glock con dentro al prodigi è una steppa di firmware software che andremo ad fare in modo che al momento le snapshot sono solo lato glock con quindi quando andiamo a fare una modifica la modifica viene trasmessa dal software alla macchina all'atto pratico a voi vi cambia poco e la cosa funziona però prima portiamo le snapshot all'interno della macchina in modo che se io anche non ho il progetto glock con quando mi arriva la macchina che ha già le sue snapshot ricevo dal software e ho tutte le snapshot che le snapshot stanno fisicamente dentro la macchina e questa è una cosa che per noi ha priorità rispetto ad altre cose e successivamente è già previsto ce l'hanno già chiesto in tanti la possibilità di impostare nelle snapshot un tempo di fade esattamente come fate nella vostra persona digitale quindi non al momento ma sarà presto possibile altre domande abbiamo un'altra domanda che me ne ero sfuggita non me l'aveva segnalata il sistema quando durante la pausa per intendersi dove veniva chiesto di rivedere la ridottanza degli input ok allora ci teniamo cinque minuti magari per chi ha tempo possiamo anche sfarare dopo le sei non sono uno statale non mi scade non devo timbrare il cartellino per cui molto volentieri dopo a termine del 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 coso li facciamo vedere anche un esempio pratico di come funziona l'input manager quindi finiamo dopo rispondo è tranquillo ok finiamo il il nostro meccanismo quando noi abbiamo questo schema e siamo nel nostro pa qua dentro dobbiamo andare realmente poi alla array quindi dobbiamo prendere questa uscita e andare nell'output finale questa è un altro passaggio che sembra no banale scontato è quello che problema c'è e ma è di più intanto non è più un dsp routing perché non è più un routing interno ma è ora di uscire quindi vado nella tabella di routing ci siamo mia moglie mi sta chiamando ma mi sa che aspetterà quindi vado alla tabella di routing nel tab di routing che è quella finale e dove voglio andare diciamo che la nostra distribuzione principale ci sta e attraverso dante perché abbiamo tutti dei powersoft x8 e e quindi se tutto va bene gli facciamo arrivare dante primary secondari tutto bello perfetto e quindi noi andiamo qua dentro e diciamo che smart dal canale 25 al canale quello che ci porta i nostri amplificatori devo vedere qui era già peccato e quindi mi prendo l'out l'array left e lo butto fuori verso dante canale 25 e così via questo è un normalissimo patch da il diciamo così il canale di processamento in uscita finale verso l'output fisico ma siccome ok che c'ho primary ok che c'ho secondary comunque metti che è lo switch metti che è un casino eccetera sai che è un buon vecchio madi che collego tra front of house e palco così non devo tirarmi del rame ancora nel 2020 nel 2021 speriamo nel 2020 ma più probabilmente nel 2021 devo andare a tirare ancora del rame tra sale palco per bella ridondanza ma anche no quindi ci prendiamo un bel madi ottico ci tiriamo gli stessi segnali dentro una cosa madi nel sul palco andiamo a prenderci chiudiamolo qua un bel prodigy mc il prodigy mc riceve un madi dritto per dritto e nel prodigy mc nel routing prendiamo che tutto quello che viene di madi viene messo in analogico o in icebu o dove voglio la conversione che mi serve la faccio sul palco e lì arrivo come ridondanza al mio analogico il mio icebu quello che voglio e il madi che questa macchina prende dal palco si aggancia al madi stesso quindi terrò il madi agganciato a quello qualsiasi sia la decisione di clock che prenderà il prodigy mp io lo seguo e addirittura posso mettere anche il follow range quindi quella menata che ho fatto prima di cambiare da un fs a due fs se io vado due fs lui mi segue automaticamente ci siamo e io posso distribuire sul palco tutti i backup che voglio e non c'è niente di complicato nel collegare un madi out dal front of house al madi in del palco ma ho una connessione totalmente ridondante perché è proprio di indipendente da 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 dante arrivo in un'altra maniera non ho nessun degrado di qualità assolutamente perché arrivo nello stesso formato digitale dentro la e localmente arrivo analogico icebu se non voglio fare questa chicca questa figata vado comunque negli mp e dico siccome io c'ho anche l'analogico qua dentro prendo l'analogico e butto fuori il mio segnale anche analogico è chiaro che avrò anche i miei sub e i miei sub verranno da un'altra parte perché i miei sub arriveranno da quello che si chiamava i miei sub 1 2 3 4 5 6 7 8 così come il mio delay vedete che se faccio clic e hold su un delay io sto uscendo dal madi 1 out 42 dallo slot numero 3 in icebu nel canale numero 2 e dal network 1 42 quindi esco con tre uscenti diverse per avere tre livelli di ridondanza anche in uscita se avessi fatto quel poccio fatto prima che va fatto smettere di ricevere mia voce perché ho sminchiato dante voi avreste avuto comunque ancora un icebu e ancora un madi che vi arrivava il vostro PA che è un'ottima idea ultimo ma non ultimo non meno importante siccome io negli output fisici ho la possibilità di decidere fase polarità che è la stessa cosa polarità gain trim mute e livelli di ogni singolo hardware output se per caso il sub che mando via con gli slot analogici ha bisogno di essere trimmato perché una volta in dbfs è uscito in dbu nell'analogico l'amplificatore non è calibrato a 0 dbfs come il digitale non è un problema perché io quello lo posso andare a ritrimare in uscita che non vuol dire cambiare l'idea qua di quanto esce il mio array questo lo decido io ma quanto deve diventare realmente l'uscita fisica ce l'ho indipendente per il main il redundant del redundant del redundant perché io decido un livello di dante totalmente indipendente dal livello del madi totalmente dipendente dal livello dell'icebu dell'analogico ergo faccio tutto esattamente quello che voglio direi che il nostro schemone che possiamo andare a ricosare non è finito perché ci mancherebbe la parte di broadcast avendovi spiegato prima come funziona la parte di broadcast mi manca solo un piccolissimo particolare che è quella che vi ho spiegato prima qui io mi vado a fare un mono per il broadcast dei subwoofer voglio far sta chicca perché voglio farvi capire quanto è realistico la cosa che io sono andato a ipotizzare qui se io prendo questo mono è sbagliato perché andrei a risommare un'altra volta il left right di quello che avviene dalle console che mi danno solo left right quindi mi vado a fare un mono da questo qua già che ce l'ho dedicato solo esclusivamente per il broadcast e cosa dovrò andare a fare ci andrò a mettere solo esclusivamente quelli che mi danno un mono separato perché quelli che devono venire dal master già me lo sommerà la matrice di broadcast che uso qua sotto del master left right quindi mi vado a fare in questa matrice che è la matrice principale e quindi ce l'ho qua ci siamo la matrice principale quella che si chiama live mix vado qua dentro vado nel broadcast sub faccio il doppio clic di questo oppure seleziono il c qui e prendo esclusivamente questo a zero di b e questo a zero di b finito così che anche il contributo di sub aggiuntivi separati che mi deve andare in broadcast ma arriva in broadcast dove qui ci ho messo anche un equalizzatore dove non me ne potrebbe fregare di meno perché tanto poi se l'equalizzatore oppure mi frega e quindi faccio vedere che è anche possibile dire guarda fammi un piacere copia questo equalizzatore metterlo lì fammi un paste di questo equalizzatore in modo dove mi ha messo il paste perché insert and paste allora non è lo stesso equalizzatore ah questo qua non il pass e questo cos'era ah questo era l'altro vedete non potete fare il copy and paste di equalizzatori che non sono della stessa verso quindi rimuoviamo questo e facciamo insert and paste dove non solo mette l'insert ma ti copia anche la cosa che aveva fatto prima quindi il low pass che ho messo per il mio PA lo tengo più o meno anche per il broadcast ma qui c'è sommato solo i canali aggiuntivi del sub che sommati nel broadcast a quello che viene dal left right mi fa perfettamente lo lo schema delle basse frequenze per discorso del broadcast direi che abbiamo finito direi che dovreste esservi fatti persuasi mi sembra interessante andare a analizzare quante risorse avevamo e quante ne abbiamo realmente utilizzate per tutto sto popò di roba di input manager ne abbiamo 32 ne abbiamo usati 8 ce ne rimangono 24 input manager è quello che vogliamo spiegare adesso di nuovo per la ridondanza dei canali ingressi delle matrici 16x4 ne abbiamo 8 ne abbiamo usate 2 ce ne rimangono ancora 6 i matrici 8x8 ne abbiamo 8 ne abbiamo usate 3 ce ne rimangono ancora 5 i flex channel ne abbiamo 32 ovviamente abbiamo usati tutti non vedo perché no di summing bus ne abbiamo 32 ne abbiamo usati 0 abbiamo ancora 32 summing bus disponibili di eq ne avevamo 64 ne abbiamo usati 29 ce ne abbiamo ancora 35 di limiter ne abbiamo 32 ne abbiamo usati 12 ce ne abbiamo ancora 20 e di delay ne avevamo 32 ne abbiamo usati 27 ne abbiamo veramente usati tanti perché abbiamo fatto anche l'ipotesi dei delay con le linee di delay aggiuntive eccetera bene o male ce ne rimangono ancora 5 quindi direi che penso che questa sia una bella dimostrazione che quando noi diciamo che giusto per avere un ordine di grandezza per cominciare a paragonare un mp quanti lm44 avreste bisogno qui fate i conti considerate che lm44 o ha 4 input o ha 4 output o se sono 4 input sono dedicate quegli output anche solo questi 24 più questi così qua fate i conti 6 per 4 24 ce ne volete anche 2 4 no questi sono input questi qua per i broadcast metteteci ne altri 2 3 4 si dai più o meno con 8 6 6 per 4 non bastano 8 per 4 4 32 si forse 8 lm44 ma poi comunque dimenticatevi il madi comunque dimenticatevi ravenna dimenticatevi sangue dimenticatevi gli altri plugin ok ci siamo quindi questo è un ordine di grandezza per cominciare a capire da quanti lm44 però non vorrei che voi mi faceste la solita osservazione che mi fa l'americano a ma me bastavano due di lm44 sti cazzi se ne bastano due ti basta un mp comunque mi spiego la volta che lo usi a fare meno e poi lsrc dove lo mettiamo il madi src lsrc sudante dove lo mettiamo quindi è ovvio che abbiamo fatto un caso specifico perché tanti di voi mi avete chiesto ma nel festival come lo uso davvero ma vi ripeto che il festival non è altro che una delle applicazioni nelle quali voi andrete a utilizzare il mp è ovvio che c'è tutto quello che serve ma è ovvio che c'è anche tanto e molto di più se se non ci sono altre domande andrei a rispiegare un attimino l'input manager perché mi è stato chiesto e poi saluterei tutti quanti che mi dici allora le domande no non c'erano dei commentanti e che insulti no no che riguardano il hanno confermato quello che dicevi te sugli 8 lm44 quindi mettiamo a posto ok sono ci sono insulti possiamo insulti in privato facciamo così teniamo un profilo professionale insultatemi in privato allora l'input manager andiamo negli input manager vediamo che ne abbiamo 32 andiamo analizzare il primo che abbiamo utilizzato ad esempio quindi andiamo nel 1 8 il ssl mi arriva dal ma di 5 in ingresso e lo backup con il network numero 5 possiamo anche farvi vedere che nonostante sia un fake perché non è vero supponiamo che abbia anche un analogico come faccio a ed è una dimostrazione anche di cosa può servire le mp in questa casa qua supponiamo che voglia trasformare un ingresso di dante in un analogico da dare a qualcun altro così io mi simulo anche un ingresso analogico di questa roba qua così vi faccio vedere un'altra figata dell'input manager che è l'auto trim dei livelli per allineare tutti i livelli in altezza se voglio creare un analogico io prendo il dante controller vado in routing vado in quello che è la ricezione del mio prodigy mp e vado da non mac pro ma mac book pro luca e vado qua e quindi dico che la band il canale 20 e 21 mi dà di nuovo questi qui che sono la band numero questa qua bene quindi gli entranti dante 20 e 21 torno nel mio prodigy vado nel routing prendo la line level out 8 andiamo a vedere se ho fatto il coso in input questi qui vanno dall'1 all'8 facciamolo con l'isw che è meglio quindi vado nel routing vado nel mio esw output e dico che devo buttare fuori il dante avevamo detto 20 e 21 guardate come ci scalva il culo il fatto di avere il meter e quindi prendiamo l'isw 7 e 8 e butto fuori il nostro network 20 e 21 seleziono le sorgenti faccio label from source e se vedo subito che questo mi viene ributtato fuori se questo mi viene ributtato fuori in teoria io come input adesso dovrei vedere qualcosa nell'isw vado nel mio slot vado nel mio isw eccolo qua isw 7 e 8 quindi quello che era la seconda band quello che veniva dal dante 3 e 4 vediamo se ci ho preso quello che veniva dal dante 3 e 4 questo viene anche trasformato in isw in uscita e poi me lo sono ripreso automaticamente quindi posso simulare che quella band lì mi dia anche un isw in ingresso ovvio che una ridondanza fatta questa maniera qua non serve un cazzo ma è ovvio anche che questa è un'altra cosa che potevo fare perché tu mi chiedi quello che ti arriva dante me lo dai dritto per dritto anche in isw ecco questo è la dimostrazione che l'ho fatto automaticamente ve l'ho dato poi il fatto che lo riprenda per farvi la demo è un'aggiunta ma non è questo dirimente quindi io se torno adesso nel dsp e torno nel mio input manager posso andare a pensare che io posso andarmi a prendere da qua anche un isw e vado a prendere l'isw 7 da questa parte e siccome ho linkato il comportamento da sinistra lui automaticamente ci va a mettere l'op da questa parte però questo qua è un livello un po più basso di quell'altro addirittura non sembra neanche quello che era infatti qua era il network 5 e non il network coso quindi se voglio fare l'esempio qua sono un pirla sarebbe meglio che vada a metterci il canale giusto quindi non sono questi ma sono il 5 e il 6 io devo andare a prendere adesso è più probabile che i canali si assomiglino forse il canale vedete che l'andamento del mito è lo stesso tuttavia per qualche strano motivo lo so perché ho giocato con i livelli i livelli non sono coerenti il segnale è lo stesso ma i livelli non sono coerenti supponiate che voi non ci possiate fare niente nei livelli che arrivano perché questo è oppure un analogico che quindi cambia a seconda del dbfs tu vai sul trim e gli dici mi fai per cortesia un allineamento di quello che sta succedendo in modo che quando dovessi passare dal main al ridondante io non abbia una discrepanza di livello non mi accorgo neanche che sta succedendo quindi ti dice guarda che le sorgenti verranno automaticamente allineate il meccanismo dura più o meno cinque secondi stai attento che ci potrebbero essere dei gay jump per cui se questo ti sta alimentando già qualcosa se puoi ad alzare ad alzare quindi ergo in altre parole a o bello se poi ti arriva un segnale grosso nel pie perché stai facendo dei casini sono cazzi tuoi comunque il warning c'è va cinque secondi 3 2 1 finito tac ha finito lui ha calcolato che gli servivano 10.6 db per avere segnali perfettamente identici il level coherence c'è per cui non solo il lock del madi del network e dell'isb ce l'ho ma c'ho anche un livello di coerenza per cui adesso io vi faccio sentire questo input manager apriamo questo nel pie e lo facciamo andare in quello che è il vostro streaming come faccio a farvi sentire il pie left right nello streaming apro la cosa di streaming vado qua dentro prendo il mio pie che il flex channel left array left e array right e ve lo faccio streamare in uscita quindi io sto simulando che è una mandata del quello che è esattamente quello che arriva nel vostro pie left e right ve lo mando anche in streaming verso di voi quindi prendo l'array right prendo questo vado a 0 db e dovreste sentire il youtube in left e right che sono questa che stanno usando l'SSL fatto adesso io vado a staccare il madi che è la versione corrente state bene attente cosa succede il lock del madi ho perso il madi e voi non li avete persi perché passate direttamente al network 1 adesso attenzione perché mi cica anche dante come faccio a simulare che mi cica anche dante apro dante controller lo porto nella stessa pagina così vedete cosa sta succedendo vedo pane dante e vado a speciare il canale 5 6 guardate il speccio solo speccio solo il left e mi aspetto e siccome che c'è il link lui ha perso solo questo ma siccome lui non va bene lui mi passerà su quello successivo vediamo se è vero sono qua tolgo questo dovevo speciare questo questo guardate eccolo fatto voi non avete perso assolutamente i due ma lui ha perso uno e basta questo sarebbe ancora buono ma siccome questo non c'è siccome questo non c'è lui ha tenuto buona la coppia degli ai semi che mi stava andando come dovesse tornare il madi il ma di torna perché è tornato buono siccome la priorità in alto e l'auto enable è on ecco che è tornato automaticamente nel madi che è il titolare e voi non avessi assolutamente sentito niente in tutto ciò sono nel mio streaming stoppo queste due robe qua in modo che mi tornate a sentire e vi dimostrato che tutto funziona a perfezione l'ho stato spiegato io ho fatto persuasi direi che vi ho spaccato le palle abbastanza sono le 18 e 10 e faremo degli altri seminari i venerdì di audio sales state state all'occhio perché abbiamo preso l'abitudine quindi ci inventeremo altre cose altri aspetti andremo in profondità altre soluzioni non ultima vi vi dico faccio una confidenza visto che siete la faccio segno ora faccio faccio si si può fare tutto ciò che vuoi quanti ne abbiamo ancora siamo tre pochi amici quanti ne ci sono ancora tutti 18 quindi gli stessi che si sono connessi ieri ho terminato delle prove e siamo riusciti ad utilizzare una tecnologia ravenna adattata al lockdown e con tre prodici in tre posti diversi io li controllavo esattamente come controllavo questo che ho davanti a me indifferentemente ci facevo passare audio non compresso in tempo reale utilizzando la normale connessione internet che avevamo in quei tre posti con latenze assolutamente compatibili con live session quindi ce l'abbiamo fatta e non servono mirabolanti investimenti si può anche evitare di coinvolgere telecom e vodafone chiaramente accettando un minimo di compromessi sulla quantità di canali che potete portare avanti indietro sulla qualità del video che volete metterci è chiaro che se volete fare una trasmissione tipo la giannini che ha cantato da berlino e a x factor eccetera lì c'era vodafone come sponsor e ci hanno buttato tutti i gigabit garantiti che avete ma non è che avete sempre la vodafone come sponsor e quindi potete spendere quello che vi va di infrastrutture la cosa buona è che la nostra tecnologia è stata validata non che avessimo dei dubbi che ravenna funzionasse o che la nostra tecnologia funzionasse e che non è disegnata per usare l'internet di casa ma noi l'abbiamo fatta andare tranquillamente con l'internet di casa quindi è molto probabile che nelle prossime settimane faremo dei webinar apposta con schemini e vi riveleremo un po' dei trucchi è ovvio che un mp che ha dal preamplificatore all'ascolto locale l'ingresso per gli strumenti gli equalizzatori i mixer interni l'ascolto locale con le cuffie ravenna dante sample reconverter è tutto quello che vi serve quindi il mattoncino che vi serve in ogni postazione è un prodigmp il resto lo fa la connessione e un po di idee questo vi lascio con questa cosa comunque verrà pubblicizzato a dovere quando saremo pronti a fare questo seminario grazie a tutti aspetta che nel frattempo sono arrivate delle domande allora scommetto che sono su questa ultima cosa no commento che sono su l'ultimo corso sta ultima cosa credeva una che teniamo in fondo perché è interessante dove michele che credo che sia andato perché ha salutato quindi deduco che sia andato però dice che ne comprerebbe volentieri due per questo te la dico dice però a lui servono di più per le conversioni in quanto lavora nel broadcast forse è meglio un montone in questo caso no ci farà sentire insomma ecco no assolutamente no perché il montone prima di tutto non ha sample reconverter a bordo e quindi serve per le conversioni e poi comunque solo madi e poi dipende da cosa fare non è che il montone non ha più senso però se vuole un mero ravenna tu dante dante tu dante scusami ravenna tu madi ma di tu ravenna o s67 e gli serve solo esclusivamente quello ma non è paragonabile cioè solo alla volta che gli chiedono un sum in basso un qualcosa un'equalizzazione un ritardo un qualcosa il montone fa solo e meramente la conversione qui c'è tutto il mondo e a livello di numero di stream una ravenna io calcolata e buttata dentro questa macchina qua ti dà comunque 128 input e 128 output e ti dà comunque 32 stream se io adesso ti chiudo questa ti apro una ravenna io io faccio 32 int e 32 out di stream e ogni stream può fare il numero di canali che vuoi per cui alla fine è più potente di mezzo montone ma è molto più potente del montone per tutto quello che il processamento al di fuori poi poi vedremo ma non ho problemi però secondo me non c'è paragone anche perché se tu metti in un prodigy mp due schede rava io tu hai le stesse quantità di canali di del montone come capacità di audio ma il doppio numero di stream avrei 64 stream di input e 64 stream di output il montone ne ha 32 comunque anche se lavora con 512 canali no 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 e tra l'altro michele era presente o non l'ho visto io nell'elenco ma era ancora presente ti ringrazia dice l'hai convinto sul prodigy molto bene male come come il risultato ecco abbiamo un altro paio di osservazioni una domanda una è semplice ma magari rispondite così almeno c'è qualche un altro che non ha avuto il il coraggio di fare una domanda e è interessante per tutti viene chiesto non esiste un software da usare offline per giocarci il glocco non puoi tranquillamente usare offline spegniamo tutto ti faccio vedere chiude tutte le finestre esterne in un click chiude anche questa finestra apro questa qua la vado a nel virtual apro globo da pro direct out vado in fondo e prendo prodigy mp questo qui è finto e ce l'avete tanto io quanto quanto voi quindi aprite la versione di prodigy finto e fate tutti i giochini come se c'aveste la macchina davvero non cambia niente potete pre programmare tutto in versione offline e il software è gratuito lo scaricate da globo con dot pro e fate tutti i giochi che volete ok ottimo confermo perché anch'io a casa utilizzo ah no già io quello ero qualcuno segno devi dire papà però io ce l'ho vero papà per vabbè a parte questa per fare l'arma tutto in fondo che ci sta sempre bene sai che io invecchio ma rimane sempre il solito coglione come dice la crozza e qui no non è vero delle volte hai dei dubbi di pre delle gioppiamenti di personalità delle volte pensi di essere di un coglione e delle volte pensi di essere l'altro l'ho sentito l'altro giorno riferita Renzi mi ha fatto troppo ridere ok e invece ci viene chiesto da Enrico per fare streaming broadcast o unicast io riferisco la domanda poi ti c'è da Enrico che è Enrico Belli no Enrico Scarano a Enrico Scarano perché se era Enrico Belli gli dicevo ma che stai spoilerà e allora broadcast unicast multicast fai conto che tutto quello che viene nell'MP fai quello che ti pare dopodiché tu quando butti nel routing verso la matrice del Ravenna decidi quale canale vuoi buttare fuori supponiamo che io adesso ti voglia buttare fuori il mio streaming quindi prendo la mia matrice streaming left writer e la butto nei canali 1 e 2 di Ravenna ok questo è quello che viene nel prodigi della macchina apro la Ravenna io vado qua dentro questo è il test che abbiamo fatto ieri stoppo questo questo stream apro questo stream e gli dico dai il canale numero della matrice aspetta che vado su prendimi due canali me lo stream in unicast con 48 sample di packet time scrivo il lo stream questo qua è streaming left right butto fuori fatto lo stream unicast questo lo sto già buttando fuori ci siamo adesso io dovrei andare aprirti una macchina è in grado di prendere questo stream quindi dovrei accendere il montone oppure te lo faccio vedere in tempo reale apro una Ravenna virtual sun card che potrebbe tranquillamente essere anche solo un software apro la Ravenna virtual sun card la vado ad attivare la faccia andare su questa roba qua abilito in ingresso il numero di canali che mi pare tipo 8 canali in ingresso lui si va a beccare se c'è un ptp un precision time protocol in ingresso si sta alloccando probabilmente si starà alloccando spero che si locchi altrimenti devo andare a capire perché si è alloccato perfetto quindi a questo punto apro le impostazioni della mia della mia macchina e vado a dire voglio streamare quella cosa che si chiama streaming left right vado nei session sources in sync vado ad agganciare il join dello stream vado a vedere cosa c'è disponibile streaming left right fatto l'ho beccato in ingresso numero del sample 8 status unicast address doesn't match bene perché l'ho fatto unicast e quindi quando l'ho streamato ha preso la versione di quell'altro torno sul questo per darti l'unicast risolvere il problema dell'ingresso del del coso unicast se io gli dico fammelo multicast in modo che possa ricevere più persone lo stream in versione multicast ributto fuori il mio coso multicast l'SDP mi viene creato vado qui vado a prendere un nuovo sync vado a scoprire che cosa c'è di nuovo disponibile nel negli stream multicast pubblicizzato sia col sap che col mdns vado benissimo benissimo sono agganciato sto ricevendo il mio stream multicast il mio ptp master è la ravenna io e questo è il 022cb3 è assolutamente il mac address della mia ravenna io io sto streamando questo potrebbe essere qui a casa tua se abbiamo connessione e se siamo connessi con layer 3 l'abbiamo già streamato la stiamo già prendendo altre domande altre domande non ne abbiamo quindi direi che un po di cose le abbiamo dette io mi fa piacere vedere che le stesse persone che a parte di quei due tre che abbiamo perso durante la pausa le stesse persone che c'erano all'inizio sono rimaste connesse mi fa veramente piacere vuol dire che non abbiamo proprio annoiato ecco mettiamo bene 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 quindi grazie a tutti grazie a luca in primis che è rimasto qua con noi e si è resto disponibili a illustrarci questa macchina che scopriamo ogni volta che ha delle potenzialità che avevamo valutato o perlomeno che non avevamo considerato quindi siamo anche io nel mio specifico sono curioso di vedere i prossimi appuntamenti perché ogni volta è veramente una sorpresa e ammetto vi dico non per fare pubblicità è ovvio che sono di parte però ammetto che anche giocando ci scopro sempre scopro di continuo cose che me lo fanno me lo fanno gradire quindi è effettivamente sorprendente il risultato ottenuto non non da sottovalutare l'applicazione che c'è appena descritto legata allo streaming che effettivamente potrebbe essere una richiesta del futuro il momento del futuro certo esatto il discorso conclusivo in poche parole ci vediamo al prossimo appuntamento grazie a tutti grazie della vostra presenza a presto e mi raccomando se non siete ancora iscritti alla newsletter audio sales vi invito fortemente così come vi invito a mettere mi piace alle pagine di audio sales e direct out sui vari social linkedin facebook instagram twitter quindi a presto grazie ancora Luca e buona sera ciao a tutti